Il numero degli impianti, ora noi abbiamo purtroppo dei dati che non si scordano, ovvero il numero di impianti autorizzati sono 402, divisi secondo la tabella di destra, telecom, moda, fluid, h3g, i quattro gestori sulla rete più gli impianti RFI che sono relativi alla loro rete interna. Alcuni di questi impianti sono utilizzati ma non sono attivi, quindi in base alla banca d'arte sui dati attivi che risulta dal censimento ARPA e dalle simulazioni che andiamo a fare, abbiamo un numero di elementi inferiore intorno ai 355, se non sbaglio, che sono in continuo aumento nel corso del 30 in questi ultimi anni. Questo è un dato generale che chiaramente fa presumere una produzione in appaumento anche nei prossimi anni. Brevemente un po' di storie sul rapporto campo-elettromagnetico di salute. Noi abbiamo lavorato nel corso di questi ultimi anni con un primo documento nel 98, che è pre-storia ovviamente, che è prima ancora dell'uscita del DPR 381 PM, che stabiliva per la prima volta quali erano i limiti e i valori di attenzione. E' stato un volume molto interessante relativo ai rischi sanitari dovuti all'infinamento delle persone non più iniziali, che realizzava quali potevano essere i valori di attenzione e limiti di produzione per le basse e alte frequenze sul tema dell'elettromagnetismo. Quindi, insomma, il Comune già da 15 anni aveva recepito l'attenzione dei cittadini su questo, aveva sviluppato dei gruppi di lavoro in merito. Recentemente, più recentemente, il tema campi elettromagnetici di salute è stato sviluppato anche in una sede di una commissione consigliare nel 2009, in cui è stato invitato il professor Fioravanti, un lavoro di ruolo dell'Ostitale dell'Arte, in merito alle conoscenze e le relazioni tra campi elettromagnetici e eventuali patologie cerebrali. E infine, segnalo il fatto che nel 2011 lo IARC ha definito che il campo elettromagnetici fossero da classificare in classe 2B come possibilmente cancerogeni, in modo da poter approfondire le ricerche che aveva diventato il suo legame. Detto questo, ci terrei a dire però che purtroppo, per fortuna, l'amministrazione locale si muove sulla base di una corretta gestione amministrativa, in base a quella che è la normativa esistente e vigente, in quanto qualsiasi no tentativo di definire limiti differenti rispetto alla normativa nazionale, è stata oggetto di ricorso da parte dei gestori e di soccombenza da parte delle amministrazioni locali, qualora avessero stabilito limiti normativi differenti in termini di esposizione rispetto a quelli che era la normativa nazionale. L'evoluzione della normativa, molto brevemente, sappiamo perfettamente che i limiti sanitari sono entrati in visore del PCM per la certezionale del 1998. Una legge regionale definisce nel 2000 le procedure e vingoli urbanistici e le abbiamo utilizzate per almeno otto anni, nonostante entrasse in vigore del Gesù Gasparri che stabilisse le procedure autorizzative a livello nazionale, che erano più semplici, stabiliva inoltre, come vediamo dopo, anche dei criteri per facilitare la realizzazione di tali elettri. E solo nel 2008 la regione inizia a dire che non è applicabile parte della normativa regionale, in particolare quella relativa alla loro organizzazione annuale. La legge, tra il 2010, semplifica le procedure autorizzative e, tenendo qui, un po' dell'ottobre 2012, complica le procedure di misura e riduce margini di sicurezza che vedono di fianco. Questo è quindi un quadro brevissimo, poi lo vediamo poi in dettaglio, se vuole essere oggetto. Mi sembrava che fosse una delle domande che fosse oggetto della comunicazione di questo incontro. Questo cerchietto rosso indica il fatto che cercare l'Italia uno degli elementi positivi in termini di principi di precauzione è il fatto che i limiti nazionali in Italia sono tra i più bassi dell'Unione Europea e del mondo. Infatti vediamo come Austria, Francia, Germania, Portogallo, Regno Unito, Spagna, si siano adeguati ai limiti di 41 voltmetro, 58 e 61 voltmetro a seconda della frequenza. Noi invece abbiamo limiti pari a 20 voltmetro come limite di esposizione, valore da non superare nessuna situazione. E 6 voltmetro come valore di attenzione avventiva di qualità, valore che non deve essere superato dagli edifici con permanenza superiore a 4 voltmeter. Quindi in questo senso il principio di precauzione favorisce l'Italia tra gli altri paesi europei. 20, trattimo 7, i limiti sono... o 20, se... E' tutto spiegato nelle righe sopra. Quindi se uno ha ad esempio un torino, un lastrico solare o un coperto, può arrivare a 20 voltmetro, nel momento in cui si è all'ultimo piano di un edificio si deve rispettare i 6 voltmetro. Infatti, cosa si fa? Ogni impianto è organizzato in base a una simulazione elettromagnetica svolta da ARPA. Se il campo elettromagnetico si sviluppa a seconda edificazione della figura, linea blu-roso-gialla, si fa fare le misure, le stime numeriche di quali sono i valori stimati dei punti indicati dalla freccia rossa e verde, ovvero dei punti più sensibili, all'interno dei primi 200 metri, ovvero la dove vi è la maggiore probabilità di superarci. Quindi, tenendo conto della sommatoria di tutti gli aspetti, di tutte le antenne presenti nella zona di città rottana. Allora, sulla normativa, brevemente, la legge regionale 3 stabiliva che le gestioni dovessero presentare ai comuni il programma annuale, generalmente il 30 settembre di ogni anno, il programma annuale aveva un percorso partecipato con la possibilità di esprimere osservazioni da parte della cittadinanza e nell'autorizzazione bisognava tenere conto anche delle contraddeduzioni sulle osservazioni presentate. Un percorso molto trasparente e con dei tempi e delle articolazioni ovviamente rilevanti. Questo ci ha permesso, infatti, di lavorare conto in questa direzione. Inoltre, la legge regionale stabilisce dei vincoli di divieto, come occupo dell'articolo 9, le due righe, nelle aree destinate a attrezzature sanitarie e sostanziali scolastiche, nelle zone di parco, di parco non parco urbano, ma di parco naturale e delle eserbe naturali. Passiamo invece alla normativa nazionale del decreto Casparri, che inizialmente era stato addirittura dichiarato incostituzionale, il 180 del 2002 e poi il 259 del 2003 è il codice delle comunicazioni elettroniche. Questo non prevede un piano annuale, prevede procedure di silenzio e assenso, che poi sono state inserite anche in modifiche della legge 30. Prevede procedure semplificate in caso di potenze inferiori a 20 Watt, non vi sono luoghi di divieto, sono possibili procedure esprocreative da parte del soggetto concessionario, e vi sono significative limitazioni della proprietà tra i soggetti serventi, nell'articolo 91-92 se non sbaglio, e il cano di riloccazione che i comuni possono richiedere devono essere agevolati. Quindi nella diatrima del quale la normativa a seguire, se la normativa regionale o nazionale, si è prevalsa la normativa regionale nel piano, fino al 2008, quando la delibera regionale 1138 stabilisce che il programma annuale non è più applicabile, in quanto sostanzialmente troppo in contrasto con la normativa nazionale, e a rischio quindi di esposizione ancora a sentenze della Corte Costituzionale. Passiamo alla legge 73 del 2010, procedure sono ulteriormente semplificate con la denuncia dell'iniziatività, e poi passiamo rapidamente al decreto sviluppo dell'ottobre 2012, scadono alcuni parametri connessi al principio di precauzione, ovvero non si considerano gli impianti alla massima potenza, ma su valori medianti sulle 24 ore, ovvero i campi elettromagnetici dipendono dall'uso delle antenne e dei dispositivi cellulari, e quindi sono generalmente presenti dei picchi durante la giornata di uso quando tutti gli impianti possono essere vagamente collegati a quella cellula. Attualmente non si fa più la misura stimata, in termini numerici, con il computer, sui valori di potenza massimi, ma sui valori mediati. Inoltre si considerano adesso le attenuazioni provocate dalle scadole, ovvero i muri. Questi lobby che abbiamo visto in qualche figura un po' prima, sono attenuati in quanto vi sono dei muri, e questo viene calcolato per le calcure di deduzione. Ma soprattutto il problema riguarda il monitoraggio, in quanto non si possono più fare misure di durata di 6 minuti, così qual era la logica precedente, ma su 24 ore, anche qui per fare un valore di mediazione, ma questo rende quasi impossibile seguire le misure agevoli in quanto è possibile. Lo deve capire. Il rischio di rischio di rischio di rischio di rischio di rischio, di rischio di rischio di rischio di rischio di rischio di rischio di rischio. Infatti abbiamo avvenuto anche gli spacci di stampa a settembre, prima di rischio di rischio di rischio di rischio, tale per cui sembrava una pagina di Repubblica fotografia, a disposizione di chi vuole, sembrava che vi fosse la possibilità da parte del gestore di arrivare a supplicite procedure auto-espropriative nei confronti dei coperti di alcuni edifici per l'installazione di questi impianti senza nessun problema, senza nessun ostacolo con i cittadini, in maniera estremamente mirata per lo sviluppo della rete e senza l'appunto del contesto locale, cosa ovviamente difficoltà all'administrazione locale. Quindi il problema di non poter sentire vinture agevoli e ufficiali crea chiaramente qualche problema in più. Cosa abbiamo fatto nel rapporto ai gestori? Altra domanda che mi sembrava venisse dalla convocazione. Nel corso del mandato amministrativo 2005-2009, è stato, visto che la normativa non permetteva, è attivo un tavolo di programmazione partecipata che, previsto l'esecuzione di numerosissimi incontri in quartiere comune e con tutta una serie di incontri ovviamente preparatori che sono indicati in figura in basso a sinistra, in quanto la mera richiesta del interautorizzatorio, così come deve essere scritto prima e dopo, aveva in realtà un inter partecipativo con un confronto con i cittadini, con i tecnici e con i gestori stessi delle concessioni telefoniche, il che permetteva in alcuni casi di andare a scegliere dei siti che potevano essere migliorativi rispetto a quelle che erano le mere condizioni che il gestore voleva scegliere. Infatti, inizialmente abbiamo sviluppato delle dette linee guida, ovvero quali erano le tipologie di siti più idonei per poter collocare impianti, aree pancheggio, rotonde stradali, aree sportive e tutti quant'altro. Erano linee guida, quindi non erano concettive, ma servivano come punto di riferimento per tutta l'attività di concentrazione con le storie. L'attività era accompagnata dalla disponibilità di siti di proprietà pubblica e anche di ricerca di proprietà non comunali, ma di donne. E quindi abbiamo visto che era possibile rispettare le linee guida, non nella totalità dei casi, ma sicuramente nella maggioranza. I dati sono riportati in tabella, in basso a sinistra. Solamente in otto casi sono stati autorizzati impianti non rispondenti alle linee guida, ma comunque, ovviamente, nel totale rispetto delle mischialità imposte dalla normativa, ovvero, magari, si collocavano impianti in area anche a densità abitativa elevata, in quanto mancava dell'alternativa, ma comunque erano comunque rispondenti delle mischialità. Quindi le linee guida erano una sorta di tentativo di andare a minimizzare alla fonte, tra scelta del sito, quelle che erano le condizioni di scusazione. Il tabella è stato sospeso nel 2010 con una delibera, attualmente la normativa non permette più i tempi di una concertazione con le modalità precedenti, ma in realtà i gestori sono interessati a una concertazione, infatti questa viene in maniera informale tramite i miei ricontanti con gli incontri tecnici. Cioè, nonostante, ci sono stati anche incontri con la cittadinanza, sia per gli altri via Portunelli di Porto Parigaro nel 2011, che per il quartiere Pilastro, San Donato nel 2012, per nuovi impianti da realizzare e realizzati laddove si sono sempre verificate delle alternative e il sito pubblico, in entrambi i casi, in siti pubblici, erano sempre migliorative rispetto ai siti privati, in particolare che Portunelli in contrasto era una scelta tra un sito che era un impianto sportivo oppure una scelta di una zona adatta di identità estativa. Il contenzioso, comunque, anche in questi casi, nasce. Questo è un elemento che non sempre va a proporre una minimizzazione, però c'è una toglia che sono elementi che vanno gestiti con tutto un percorso che si identifica caso per caso. Quindi, nonostante il tavolo ci sia il concettatore di questa linea comunque il percorso che è avvenuto nel corso di questi anni. Esposizione reale, dati di monitoraggio, che sono dati relativi al 2008-2009, una delle aziende che abbiamo trovato domani. Per fortuna l'esposizione è comunque contenuta. Tutti dati di monitoraggio varia a 132 punti di euro ha fatto sì che per l'82% dei casi ci si trovasse al di sotto di 1 volt metro e per l'arrascante percentuale al di sotto di 3 volt metro. Quindi, per fortuna i fattori di stima e i metodi di stima sono dalla parte della sicurezza per le tecnologie che non utilizzate e ciò da lungo a margini di sicurezza e ulteriori minimizzazioni degli effetti che li vediamo arrivando a misure per fortuna decisamente più contenute rispetto a quelle che sono di stima numerica. Perché? Allora, qual è possibile il sviluppo nella scelta dei siti e nell'apporto dei gestori? Due tempi. Le aree delle zone periferiche e del centro storico due percorsi diversi. Per le aree periferiche noi teniamo un'attività di sviluppare abbia sviluppato uno studio di pianificazione che tra l'altro è disponibile qui assolutamente in rossa in un lavoro specializzato dove numerose aree comunali sono state identificate ai doni rispondenti alle linee guida comunque sempre dal nostro punto di riferimento iniziale come si dì idoneo ospitare i pianti di telefonia mobile anche per deviare insomma altrimenti un numero non sempre rispondente alle esigenze funzionali dei gestori stessi dove teniamo importante fare percorso sessi comunali perché è un modo per minimizzare il rischio anziché evitare che vi sia una scelta autonoma dei gestori per l'individuare degli istiti per quanto riguarda il centro storico entrano in base dei vincoli di tipo antitetonico rilevante e la funzionalità della varietà ha necessità di maggiore esità e quindi ho un dettaglio come poter fare per avere scelta la visita paesigistica vediamo cosa abbiamo fatto per il centro storico questa è una mappa di una carta del quartiere Sagra con le identificazioni di tutti i siti individuali che in un anno hanno affermito i problemi di impatto elettromagnetico sulla popolazione e quindi queste mappe vengono presentate ai gestori con il loro piano industriale loro abbiano intenzione e interesse a sviluppare un aumento della copertura in certe aree si può incontrare in questo modo la domanda dell'offerta il concetto è questo in amare questi due colori che sono altrimenti un po' falsati abbiamo da una parte i vincoli di divieto e dall'altra parte le proprietà comunali quindi le situazioni che sono le opportunità e i limiti e i condizionamenti per quanto riguarda il centro storico che cosa succede che i gestori devono mettere posizioni elevanti rispetto al potere circostante e questo fa sì che si freino delle criticità dal punto di vista pariagistico che sono rilevanti e che vanno gestite come gestirle o allora i centri elettrici o si alzano grazie a delle paline come vediamo in questi casi oppure a nostro avviso come alternativa devono inserire su un edifici in quote più di presente che siano quote elevate ma questo generalmente va a cozzare col fatto che sono edifici vincolati sono edifici che sono soggetti a vincolo da parte della scontendenza quindi l'inter autorizzativo è tutto a questo indicato questa è la torre coronata per l'imparve da 94 via di pianto telecom che ha detta di molti è sostanzialmente invisibile infatti sono gli impianti sono inseriti nella parte della torre vediamo questa indicazione in basso sono queste queste non so come si chiamate queste 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 strutture che sembrano sono dei pannelli in realtà non si chiamano sostanzialmente e un'altra produzione invece non è quella dell'inserimento ma quella della mimetizzazione questo è un spazio cammino in via dell'olandis a via saloni che sicuramente è chiaramente sovradimensionale rispetto a strutture delvice esistente penso che sono possibilità di nascondere gli impianti uno lì nasconde l'altro invece si salisce in un contesto messaggistico e vi sono pregi difetti di estranei situazioni però in questo modo riusciamo a metterci edifici alti e anche in questo caso minimizzare gli affetti sulla salute della cittadina vediamo i vincoli urbanistici dopo i vincoli architettonici vincoli urbanistici il piano strutturale comunale aumenta i vincoli della legge 30 ovvero se c'erano già i diviti a collocare i piatti di strutture sanitarie e sanitarie scolastiche in base legge 30 il comune ha aggiunto una volta variante per il recino 2002 riconfermata dal PSG che il vincolo si sussiste anche sugli edifici utilizzati in modo esclusivo prevalente con le strutture sanitarie in cortogenze a sostanziali scolastiche e in un facile rispetto del raggio di a meno 50 metri dal limite esterno degli edifici e delle armi per chirenza quindi questo buffer in realtà così come è scritto con una delibera dell'azorario 2011 degli importi che sono in linea con il presto dei mercati dedicati 14.000 10.000 10.500 euro a seconda delle casistiche ovvero un impianto 14 due impianti 12 per 2 oppure se c'è un unico capofila c'è l'asfalto a 3 quindi 10 10 500 per 2 cambi gli affetti differenti e perché ci siamo lineati per il sindacato perché se abbiamo i citidoni è stato detto il nostro lavoro di collivisione e partecipazione dei cittadini che oggi avviene in termini diversi da un tavolo partecipato perché comunque avviene eventualmente siamo sempre accompagnati da ASL non solo ma negli anni scorsi cui i limiti di bilancio sono sempre più difficili questa cosa abbiamo una connessione con che si vedeva disponibile quasi caseggiato per caseggiato delle verifiche puntuali che mostrassero ovviamente l'impatto quindi il fatto che questi impianti stessero ampiamente come è stato detto sotto i limiti la seconda cosa che è bene ribadire anche perché spesso è oggetto anche quando si fa il fondo dei cittadini la contestazione cioè il cittadino ma piuttosto che qui non potreste farla un chilometro dove c'è un prato verde o dove c'è una zona abitata che si vede abitata i siti di interesse dei gestori sono siti molto specifici e sono quadranti molto stretti quindi la nostra possibilità di scelta e di opzione è molto 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 limitata quindi questi sono i due eventi che credo sia bene sapere chiedo degli invitati chi ha chi vuole che ve la parola ai consiglieri io sono che vorremmo proporre i colleghi si deve intervenire per prima perché mi parlerebbe il problema di tutto sanitario e gli altri sono tutti colleghi diciamo che vengono insieme gli altri duratori io sono d'accordissimo anche perché c'è una serie di persone che poter coiburitare e hanno il valore quindi cominciamo bene dottoressa prego sono La presentazione è un po' scombinata, probabilmente ho utilizzato un programma che non è strettamente compatibile con questo, comunque sarà una traccia, quindi non c'è niente di fondamentale. Ecco, la presentazione comprende il tema dei campi elettromagnetici, perché non avevo focalizzato bene quale si era pensato il problema in quelli. Se erano i campi magnetici in generale, su cui si sarebbe parlato, sono di altre frequenze, quindi vi domandò. Ecco, voglio fare una piccola premessa all'intervento. Mi trovo spesso in coinvolta, in governatore, coinvolta dai comitati dei cittadini, a volte dai sindaci. Il fatto di essere stata invitata, in questo caso, sia da un gruppo che molto spesso è presente come comitati dei cittadini, sia dall'amministrazione comunale, mi fa un gran piacere, perché vuole dire che la negoziazione che l'Istituto Aramassini ha cercato di intraprengere, delle università, in cui è stato coinvolto, ha portato a buoni frutti. Un'altra osservazione che voglio fare è quella relativa all'impotenza totale, in cui io vedo trovarsi le amministrazioni locali oggi. Questo per la tecnologia mobile, ma anche per altri temi quali gli impianti a biogas, piuttosto che le geomasse, piuttosto che altri tipi di tecnologie che piogono nel territorio e che in effetti non riescono ad essere complessati. Questo è un problema molto, molto grave dal mio punto di vista di democrazia, non solo di salute. Quindi sono ben felice di essere qui in questo momento a portare questo messaggio. Ecco, io abito in una piccola cittadina appena fuori Bologna, ci sono negozi di tutti i tipi, fornaio, macellaio, passiccere, bar, tipico paese della massa bolognese. Poi c'è un negozio di telefonia. Quando il sabato mattina vado a fare la spesa, in questo periodo di crisi trovo i negozi quasi vuoti, là dove si compra il cibo e trovo la fila che esce dalla porta dal negozio di telefonia. Quindi noi dobbiamo prima di tutto riflettere sul fatto che noi cerchiamo di contrastare le scelte del grosso potere economico al momento presente nella nostra società. Ha sicuramente superato quello dell'industria del petrolio, ha sicuramente superato l'industria farmaceutica che sono stati i maggiori business, cioè la malattia, non la salute, perché l'industria farmaceutica agisce sulla malattia. La malattia e l'automobile sono stati i nostri, non possiamo in qualche modo dire, questa è l'epa del ferro piuttosto che l'anato, noi dovremmo dire, questa è stata l'era del petrolio, dell'industria dell'automobile e dell'industria del malato. Oggi è anche l'industria del telefono ed è un'industria fortissima, tanto più se noi pensiamo che questo tipo di industria agisce sulle teste, quindi crea attraverso la comunicazione un gregge e questo gregge è difficilmente amministrabile, è molto più difficile da amministrare di quanto non sia la mobilità o gli ospedali, perché agisce direttamente sulle teste. Una delle raccomandazioni che io faccio all'inizio, poi vi darò finalmente i dati, è quello di agire sulle scuole. Noi abbiamo iniziato da 4 o 5 anni un'attività di informazione, di conoscenza all'interno delle scuole, se non altro per portare dei messaggi come quello che vi ho dato, cioè dire ragazzi attenzione, non crediate di essere emancipati perché avete l'ultima generazione dell'epoca, l'emancipazione è altro. E poi c'è la vostra salute, quindi tutti consigli su come usarlo, su come collegarsi, su quali sono i metodi per essere i miei risposti. E abbiamo visto che funziona. Purtroppo sono tornata di sera dall'estero, non ho avuto tempo di passare dall'estero, volevo portarvi dei manifesti che abbiamo preparato alle scuole e che quando andiamo a fare lezione, passatevi il termine lezione, portiamo nelle scuole. Io credo che una delle azioni che nella vostra impotenza di amministratori potete però fare è quella di agire sugli individui cominciando proprio dai ragazzini, perché purtroppo non mi regalano il telefonino a bambini di 16 anni. E qui ho finito adesso. Scuso, salverò qualche diapositiva, voglio solo farvi vedere questa. Questa è la mortalità per tumore a Bologna e provincia a partire dalla fine degli anni 50. fino ad oggi il registro tumore di Bologna e provincia era tenuto dall'istituto Adare quando era ancora in vita il professor Manzoni, poi avevamo perso la possibilità di continuare a seguire. Aveva iniziato l'ASL di Bologna però dalla fine degli anni 90 e tramite una convenzione abbiamo dato, diciamo, regalato all'ASL di Bologna tutti i dati che avevamo raccolto, per cui noi al momento siamo in grado di misurare, di rilevare qual è stata la mortalità per questo tipo di patologie in 50 anni. Come vedete c'è un aumento forte a partire dalla fine degli anni 50 fino alla metà degli anni 90 e questo aumento forte è sicuramente, vedete, più nei maschi che nelle feste, collegato ad esposizioni lavorative, cioè all'industrializzazione, quindi la mancanza di protezione per i lavoratori e quindi l'insorgenza di patologie soprattutto determinante dall'occupazione. Dalla fine degli anni 90 e poi c'è un calo della mortalità, ma guardate bene, l'incidenza invece è un aumento, cioè il numero di casi ogni anno, è un aumento di un punto percentuale all'altro. Il calo della mortalità è tutto dovuto ad azioni di prevenzione secondaria, cioè alla diagnosi precoce e al successo di qualche terapia su alcuni tipi di tumore particolari, ma in particolare al fatto che i tumori tramite i grandi progressi della diagnostica per immagini che riescono a rilevare tumori di piccolissime dimensioni, una volta estremati, guariscono completamente e quindi c'è un calo della mortalità. Nella nostra provincia, nella nostra regione, questo deve essere una misura di come si è lavorato bene, perché se non ci fosse stata prevenzione, se non ci fossero state politiche di prevenzione, questo risultato non ci sarebbe in altre regioni. Questo risultato non c'è. Infatti mi dispiace molto che l'Azri Bologna, dopo due anni da questo dono, non abbia ancora presentato tutti i tumori. Non perché sono dei ragazzini, ma come cittadina bolognese mi farebbe un vero piacere far vedere che i nostri settori hanno governato bene la salute pubblica. E quindi lancio questo appello, siamo a disposizione per venire insieme a loro Francia e al suo gruppo a presentare questi veri risultati che non riguardano solo i tumori, ma gli incidenti stradali, gli incidenti domestici, cioè tutte le cause di morte. Come può un amministratore amministrare bene se non sa come muore la gente che governa? Non può amministrare bene. Sa quanti ne nascono, non sa quanti ne muorono, come muorono e perché muorono. In fondo è la nostra vita che ha l'interesse nel soggetto e quindi questo è un dato secondo me molto rilevante. Altrettanto bene avete fatto voi amministratore a proposito delle malattie cardiovascolari che sono di tanto debilite da non essere più a Bologna la prima causa di morte. I tumori superano le malattie cardiovascolari, quindi anche questo è un dato molto interessante. Vado velocemente perché voglio lasciare il passo ai miei colleghi. Comunque ogni anno in Italia muorono circa 150.000 persone per l'umore. Pensate che nella seconda guerra mondiale i morti civili sono stati 130.000 in cinque anni. Quindi il cancro fa in un anno più vittime di quanto abbia fatto una guerra mondiale. Questo è un dato da tenere presente. È stata una mia curiosità, volevo rendervi conto dell'ampista del disastro. Quindi sono andata a cercare un numero che fosse eventualmente simile e questo è veramente qualcosa di impressionante. Altrettanto lo è per i bambini perché mentre l'incidenza, come vedete, aumenta e aumenta quasi di due punti all'anno, il percentuale sul tasso standardizzato, la mortalità, poiché molti linfomi e le ocemie, che sono i tumori più frequenti nei bambini, sono controllabili, quindi la mortalità è in decremento, l'incidenza invece è in aumenta. Non possiamo più parlare di occupazione, non possiamo più come negli anni 90 dire che quei morti in più sono correlati a situazioni espositive e lavorative, come è successo per gli uomini che sono deceduti dagli anni 50 alla fine degli anni 90. No, ci troviamo di fronte ad una situazione in cui la maggior parte dei tumori non sono correlate ad esposizioni lavorative, ma piuttosto alle esposizioni ambientali. Vado anche qui abbastanza velocemente. Situazioni ambientali, qui si è proprio scombrato tutto, che possiamo definire in questo modo. Perché vi faccio questa piccola raziocina di cancerogenesi? Perché il cancro, per molti, è un punto interrogativo che hanno capito bene che razza di malattia è, perché non c'è un vaccino, perché non c'è una pillola magica, perché? Perché il cancro è una patologia multifatoriale, cioè è dovuta a diversi fattori. Uno di questi è l'invecchiamento, cioè io invecchio. Le mie cellule nell'invecchiare perdono le loro capacità di stabilità. È come se noi all'interno avessimo tanti piccoli muratori, con la loro calcina e la loro pastore, che vanno in giro per la cellula e quando arriva un agente di mutaggio, non lo tap, 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 vanno e riparano. E nell'invecchiare questi muratori diventano sempre meno e sempre più letti. Per cui può rimanere qualcuno di questi buchi non sistemato. Questa cellula con i buchi non sistemati fa altre cellule con buchi non sistemati. E questa moraggine dei buchi aumenta fino a che la cellula non diventa una cellula non gelosa. Quindi l'età è un fattore predisponente. Cioè, se tutti i mori vivessimo fino a 120 anni, probabilmente moriremmo tutti a causa dei tumori. Poi ci sono fattori genetici, guardate bene, non eredità di età, che è tutta un'altra cosa, ma predisposizioni. Cioè, predisposizioni a farsi fare i buchi. Oppure pochi muratori. Cioè, una tipologia genetica che è predisposizione rispetto a questa malattia. Ma tutto questo ha bisogno di un fattore scatenante che è l'esposizione a sostanza cancerogica. Cioè, se non c'è nessun agente che va a fare buccanini dentro le cellule, la cellula se ne sta bella tranquilla anche se è predisposta. Ma quando intervengono fattori esterni, la cellula si avviene. E oggi, quello che si sa negli ultimi dieci anni, è che se questi agente esterni intervengono quando l'organismo si sta sviluppando, cioè durante la vita embrionale, o nella giovanissima età, la possibilità di creare danni aumenta in maniera esponenziale. Quindi, di tutti i cittadini, quelli più a rischio sono madre ingravidate per il bambino che ha avuto le loro dentre e di piccoli per il bambino fino ai 14, 15, 16 anni. Per dirvi, di chi dovete avere premura? Quali sono i cittadini di cui dovete avere maggiore premura? Per semplificare quello che vi ho detto, faccio sempre l'esempio della pavola dei tre porcellini, è banalissima, mi scuso, con il professor Levi per questo esempio. Però, ognuno di noi è come se avesse una casetta o di paglia o di legno o di mattoni. Chi ce l'ha di mattoni? Ce l'ha di mattoni, quel vecchietto, che fuma da 40 anni, 50 anni, due pacchetti di sigarette al giorno. E tutti dicono, va bene, ma che è vero, perché non fa male, guarda lì, c'ha 80 anni, sta benissimo. E con lui ha la casetta di mattoni. Quindi anche se lui, c'era il benzene, c'era la sigaretta, c'era il catrame, soffia, 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 poco. Perché non sappiamo com'è la sua casetta. E quindi, sono venuta perché sia utile. Perché se voi non capite qual è il problema, come fate a risolverlo? Quindi, la casetta invece di paglia, chi ce l'ha? Ce l'ha, quel poverino che muore, giovanissimo, più muore, anche se ha tutte esposizioni basse. Perché basta un punto, basta un danno, allora poi provate a pensare in una città, quante sostanze chimiche, quanti agenti fisici ogni giorno vengono a contatto con il nostro organismo, ma non vengono a portare sui due giocatori, a parlare sui modi. Ma ad un certo fin d'antone non c'è il fatto. Diamo avanti, campi magnetici. Ecco, questo è lo spettro, vi vedete? Questa è la cosa che degli anni, proprio alla fine degli anni 80, quando noi abbiamo iniziato uno sperimento su più di 11.000 raddi sulle radiazioni gamma, quelle delle centrali nucleari, dopo Cerno, abbiamo fatto uno studio bellissimo, finanziato in gran parte dalla provincia di Bologna, quindi dai cittadini della provincia di Bologna. Vedete, questo è lo spettro delle onde elettromagnetiche, ionizzate e non ionizzate. A voi vedete che sono praticamente, è come se noi parlassimo di una soluzione più o meno concentrata, passatemi il paragone. Noi abbiamo delle onde con una frequenza più o meno grande, ma parliamo di quella cosa lì, cioè parliamo di onde elettromagnetiche. Allora come escludere a priori che solo perché cambia la lunghezza d'onda l'effetto debba essere diverso. Non si può escludere a priori, perché anche se non sono ionizzati, i cambi elettromagnetici sono radiazioni. Gli ultrasuoni o le microonde sono radiazioni di frequenza diversa dalle radiazioni ionizzate, ma sono comunque radiazioni. E anche questo va tenuto bene presente. C'è il fatto, adesso prima vedevamo questa iniziativa che io trovo stupenda, perché l'estitica secondo me è un grande valore, che ti serve all'uomo anche per sopravvivere o vivere meglio. Quindi quel cammino che camufava l'antenna, bellissimo, anche perché toglierà di mezzo gli effetti psicologici sulle persone che ce ne hanno stavate avanti e di cui noi dobbiamo anche tenere conto, perché nel dubbio, poiché nulla si sa, se tu tutte le mattine apri la finestra e ti trovi un antennone lì davanti che ti proietta contro, magari hai mal di testa o hai dormito male o hai dei salvi nel ciclo mestruale e dici ma cos'è, cosa non è? Cioè ti si crea un indotto da visione dell'antenna che è comunque una patologia. È comunque una patologia che ti rovina la vita perché tutti semplificano però vuoi vedere il fatto di aprire la finestra e vedere è l'impatto che ha l'inceneritore, è l'impatto che ha qualche cosa di cui tu non conosci il pericolo. Se tu sai che una cosa scotta, non ci metti la mano. Non sai se scotta o non scotta se te la trovi tutti i giorni può creare anche se le problematiche. Questa è tutta la parte che riguarda la corrente elettrica e invece vediamo un po' quello che sappiamo delle onde tra i 30 kHz e i 300 GHz. Intanto, i miei pc sono tutte spostate, ma lo stesso. Nel mondo senza considerare i cordlessi domestici ci sono 6,6 miliardi di telefonini, quindi più che di abitanti. In Italia ce l'erano 4 milioni nel 1996 e ci sono 40 milioni oggi. 4 milioni nel 1996 40 milioni oggi. 9 milioni negli Stati Uniti negli anni 90, 285 milioni oggi. Quindi questa è l'evità che è la quantità. Ecco, noi abbiamo un dato che sicuramente è certo che ci sono sono stati osservati in diversi punti della Terra con diversi studi epidemiologici da diversi ricercatori gli stessi risultati. E questo per la scienza la riproducibilità di un dato significa che il dato è confermato. Quindi che cosa si è visto? Si è visto un aumento anche se non statisticamente significativo di riforme le ocemie nei bambini soprattutto quando erano stati concepiti in periodi già di telefonia quindi che la madre era già stata disposta perché quando la mamma parla al telefono le radiazioni attraversano la sua faccia attraversano il suo corpo quando l'azienda è al di sopra di noi le radiazioni attraversano tutto il nostro corpo se dentro c'è un vivo attraversano il vivo negli anni 2001 e 2002 sono stati osservati i primi nervi i primi tumori dei nervi acustici di cui il professor Dennis poi eventualmente credo che vi parlerà perché la famosa sentenza che ha fatto risarcire i lavoratori che utilizzava per tante ore al giorno il telefono cordless il telefonino è affatto storico e non in Italia ma nel mondo è una sentenza a cui si rifà nel tutto il mondo c'è stato anche nel 2004 un altro studio che ha sollevato di nuova il tema del nervo acustico del nervo acustico è un disastro soprattutto quando dalla parte in cui di solito si tiene il telefono quindi un effetto guardate non termico perché molto si parla degli effetti termici che sono poi gli effetti che le micro che usano per scaldare l'acqua che le cibi allora si dice scaldano l'erzo quello è l'effetto che fa male no l'effetto termico non c'è assolutamente niente tu puoi non avere nessun effetto termico ma avere invece l'effetto della radiazione che attraversa i tessuti quindi quindi questi sono problemi d'acqua ve ne voglio fare tutto ecco io direi possibili agenti cancerogeni per l'uomo dice l'IARC a Lione guardate quando l'IARC dice che un agenti sostanza chimica è un possibile cancerogeni poiché queste commissioni sono formate da persone molto spesso indipendenti e anche però da rappresentanti del contempo il fatto che si arrivi a dire che è possibile vuole dire che c'è già una certa evidenza il giudice della causa in cui il dottor Levi si è stato operito ha riconosciuto che per il nervo acustico esistevano già abbastanza d'arte per poter correllare l'uso del telefono con il con il tumore ecco anche il wifi mi è voluto mettere perché di questo non si sa molto in effetti però si è studiato a livello epidemiologico che le persone che vengono esposte tutta la giornata o in avventura perché ce l'hanno a casa propria è molto diffuso oggi avere la linea cordless e il 3% della popolazione ha disturbi di questo tipo cioè disturbi del sonno nausea disturbi della vista del visto storbimento quindi sempre un po' il sistema nervoso perché il cervello e lo dirà sicuramente il professor Levi viene irradiato che si riscalda all'interno perde parte delle sue proprietà per lui è tutta la parte dell'orecchio che sta vicino al cervello per un bambino è tutto completamente che viene sopravvosto di questo tipo di attività ecco noi abbiamo fatto un studio piuttosto bello che vi voglio far vedere che comprendeva più di mille animali più di quasi 2500 animali vi faccio vedere solo l'incanto positivo vedete che ormai il messaggio è concluso stiamo facendo i vetrini per essere terminati al microscopio è stato completamente finanziato questo studio che costerà alla fine è quasi 3 milioni di euro finanziato dall'istituto Ramazzini cioè dai nostri volontari che fanno le crescentine dalla fondazione del Monte di Bologna e da Vispes per qualche centinaia di euro centinaia di mille di euro per l'istituto Ramazzini per studiare una tecnologia che è planetaria quindi voi capite come si investe tanto nello sviluppo dei prodotti ma pochissimo nella cera perché sarebbero le compagnie dove spagare a fare queste cose qua non noi con le politiche insomma o le amministrazioni con le donazioni ma già che qualcosa che siamo in una terra come la nostra dove l'agente tiene molto alla solidarietà e ci deve essere anche questi coinvolgimenti quindi vedete all'interno c'è la antina e attorno una simulazione di condominio ogni gabbietta contiene tre o quattro topi i quali nascono lì e lei non ce l'ha in te amicino poveri poveri noi no non ce l'ha ma non ce l'ha mini appartamenti che sono stati esposti dalla vita embrionale perché lì sono andate a vivere le mamme quando erano gravide poi sono stati tratturiti divisi per sesso e stanno lì per tutto l'arco della vita niente vivisezione niente accadimenti semplicemente la simulazione di una popolazione in mano sì 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 no no non ha mai fatto nessuno perché sarebbe più grande anche se ci fossero solo degli animali ma invece sono 2500 e muoiono in morte spontanea la morte viene fatta un'autopsia completa vengono esaminate tutti gli organi tessuti abbiamo studiato tre anni tre anni di un rato corrispondono a 90 anni di un uomo quindi nell'arco di due anni tu hai già due anni e mezzo hai già tutto il recorso della vita poi c'è l'etaborazione dei dati ma cinque anni sono sufficienti per avere in mano la verità e noi in questo esperimento l'abbiamo iniziato nel 2004 stiamo tardando perché non ci sono i soldi eravamo 60 persone siamo 20 quindi i tempi si sono allungati perché l'elaborazione dei dati implica fare tutti i testi visologici guardare tutti al microscopio ci vuole gente perché la gente almeno a Tassini la paghiamo quindi ci siamo impegnati soprattutto con i nostri soci per dotare questi dati a conoscenza pubblica alla fine del 2014 se ci saremo ancora noi come stupido perché lei capisce le impressioni sui temi di questo genere vanno anche molto lontani noi abbiamo rischiato nel 2005 di chiudere con la storia della spattare quindi questo non ha un minore impatto di quanto noi abbiamo avuto la spattare quindi se ci saremo fuori o comunque una casa grande ma in più la scatata torneremo tutta a casella ecco e questo è il condominio noi abbiamo studiato 25 volt 50 volt metro 25 volt metro e 5 volt metro per simulare vedere che cosa succede nei valori che comunque sono angessi siamo andati a cinquate non a cento microtese perché ci sono numerosi studi che dimostrano che più che esposizioni fortissime sono quelle croniche e basse che interagiscono con il profismo cellulare quindi abbiamo scelto delle dosi che sono nel range di quelle che sono ammesse da porno quindi lo IAC 2002 possibili agente direi che non ho un grande ancora da dirvi vi voglio solo portare una frase del mio professore del professor Maldoni che in una nostra pubblicazione scrisse gli alti costi probabilmente rappresentano quelli della ricerca intendeva rappresentano le ragioni per cui nel settore della cancerogenesi sperimentale e ambientale le parole si sostituiscono ai fatti le opinioni ai dati e i congressi e i resoconti delle commissioni sommengono i buoni dati di laboratorio voi pensate se noi avessimo tutti i soldi che sono stati spesi in conferenze sui campi dell'elettro negli ultimi vent'anni ma sapete quanti esperimenti vi avremo già fatto noi quindi concentriamoci cioè la ricerca porta numeri non opinioni e di fronte ai numeri anche se non piacciono delle misure manoprese perché l'arroganza di chi ha il potere rispetto a questo tipo di tecnologie è talmente forte che non permette neppure ad un amministratore di amministrare a dovere quindi su questo vi voglio proprio aiutare io non ho altro vi ringrazio molto della pazienza spero di aver colmato microfono assieme al collega di Pisa il professor di cora di la prima che inizia ha rilassato sui rischi di costruzione di un nuovo elettrodotto e vi dico subito qual è l'obiettivo di questa mia presentazione io ho apprezzato il lavoro che fa il comune di Bologna con mille difficoltà inoltre alle risprezze legislative e allora ho proprio preparato un quadro per farvi vedere come è un assurdo che sta succedendo man mano che sono progredite le conoscenze sugli effetti dannosi dei campi estromagnetici la legislazione si è via di liberalità e non adeguata alle conoscenze che oggi si ha e vi farò vedere una conoscenza anche di come per fortuna ogni tanto la magistratura sia civile che in l'agio fino alla Cassazione riesce a dare delle indicazioni che non hanno sfruttate anche se sono limitate a pochi casi allora questa prima immagine io ho riassunto un po' quello che poi vi spiego voi vedete in questa corona i limiti che ancora oggi l'organizzazione mondiale della sanità la commissione europea attraverso le sue condizioni scientifiche una di queste si chiama scenir ed è la legge e lich mir che è una commissione che è stata creata negli anni 80 e è stata la prima a indicare i limiti per le varie frequenze si è autocostituita non è riconosciuta a nessun livello pubblicale però è la legge e dal 84 quando ha fissato i limiti che adesso vi illustrerò questi non sono mai cambiati e sono questi i limiti che ancora oggi dovrebbe essere la commissione europea di venirse tutta una serie di altre commissioni e in Italia l'Istituto Superiore di Sanità continuano a sostenere come limiti cautelativi sono per le bassissime frequenze cioè per i tradotti 100 micro testa per le radiofrequenze in piante radio dell'infinito di lì con 87 a corso un metro per le micro telecomuniche di telefonia cellulare a seconda delle frequenze dai 27 ai 61 volt su metro via via sempre più alzate ritenendo che le nuove tecnologie siano perché sono meno potenti o meno dannose allora il principio di questi limiti state ben attenti che è un principio cautelativo solo nei confronti degli effetti cioè si parte da un assunto che deve essere accettato non dimostrabile e non dimostrato che gli unici effetti dannosi che possono provocare tanti provenenzi siano voluti ad eccessivo riscaldamento con l'induzione di correnti elettrici e quindi contrazioni muscolari ma diciamo un riscaldamento che il nostro organismo con i meccanismi di onestatici non è in grado di contrastare questi limiti vi ripeto sono impuntati dall'80 a 4 e sono stati stabiliti in questa maniera che voglio indicarvi costruendo dei maninini di gomma a segnanza umana ripieni di un liquido che assomiglia dal punto di vista della concentrazione a quello delle nostre cellule irradiandoli con varie frequenze e andando a vedere a che livelli di sacro e di assorbimento di campo elettromagnetico sia un riscaldamento eccessivo non compensabile ma sono dei manichini verdi non sono degli organismi viventi in particolare non sono organismi che funzionano in tutte le loro funzioni attraverso campi elettromagnetici perché il nostro cervello il nostro cuore il nostro gruppo ma anche le nostre cellule degli scambi con l'ambiente in cui vivono cioè nell'assorbimento dei metaboliti e nell'espulsione dei metaboliti agiscono attraverso campi elettromagnetici quindi mentre in un manichino non ci può essere nessuna interferenza tra la radiazione incidenti e la radiazione che c'è all'interno di un organismo umano fenomeni di interferenza sono probabilmente una delle cause principali dei disturbi che si crea e ci sono scienziati che su questo hanno sviluppato non solo delle teorie ma anche dei magnifici lavori sperimentali e adesso se voi pensate cosa potremmo uscire sopra un apparecchio con la televisione o un riferitore di fisica ogni tanto quando il cellulare viene contattato dall'antena che deve sapere chi c'è nella sua zona sentite un'interferenza come si verificavano le interferenze tra canali diversi in un'altra rara insomma allora questo ripeto è quello che noi abbiamo ancora oggi come il nemico che dobbiamo combattere ed è un nemico molto forte perché dietro ci sono organizzazioni ancora scientificamente riconosciute anche se in realtà scarificate pensate allo scandalo che ha proposto noi ha messo con il tabacco è arrivato a vent'anni il ritardo rispetto ai dati scientifici che si avane alla serogenicità il tabacco pensate che il Parlamento europeo che è pronomato da parlamentari che rispondono ai loro elettori attacca da anni la Commissione europea chiedendo che questi limiti vengano abbassati dall'altra parte andiamo invece i limiti che ho della vita cioè i limiti che ci si chiacchiano gli stendenti che non hanno legami con l'industria da anni esprimi convegni di servizio che premita ritengono che siano i veri limiti e mi ricordo il discorso di questo conoscimento delle tendenze che negli anni 90 il decreto di un ministeriale 381 del 98 aveva fissato in tre momenti sulla differenza interna e esterna degli edifici ma siamo molto trattati dai limiti e non parliamo dei limiti per i lavoratori che sono limiti assolutamente straventosi basati su che cosa questi aumenti cinque volte rispetto a quelli già pazzeschi per la popolazione basati sull'assunto che sono persone adulte che sanno il lavoro che fanno per vari anni di tutelarsi cosa che noi leggiamo in fondo sui giornali di cosa fanno senza sapere quali sono i rischi che fuori ecco questa è stata fatta vedere ma ve la ricordo molto minutivo come ha detto Turella questo è lo spettro completo delle radiazioni elettromagnetiche dai campi statici come il campo terrestre alle radiazioni unitari allora all'interno di questo spettro noi troviamo dei sicuri cancerogeni classe 1 delle radiazioni unitari tutti sappiamo che sono radiazioni casi per vedere troviamo dei probabili cancerogeni che sono le radiazioni ultraviolette non iutizzanti ma più parte di un aspetto che sono gli ultravioletti nelle normali attività troviamo le bassissime frequenze come è stato fatto prima da Fiorella di Gerardi possibili cancerogeni nel 2001 2002 dalla IA alla gestione e troviamo le radiazioni frequenze in particolare quelle messe dai cittadini nel 2011 allora se voi sentite parlare alcune persone che hanno grandi autorità facciamo i nuovi presenze il professor Veronesi già ministro della sanità direttore della fondazione Veronesi vi spiegano che i campi elettromagnetici non ionizzati proprio perché non sono capaci di rompere le molecole ionizzandole non possono essere presenti si legge che si stesse ancora oggi ma dico questi delusivi personali sono degli oncologici dovrebbero loro spiegarvi come sono perché sono cancerogeni le amine aromatiche i procuratori aromatici policistici il cloruro di vinile i meccanici cancerogeni il campo non deriva solo e sempre da una ionizzazione deriva da mille altri meccanismi che comportano quasi sempre nella fase iniziale una alterazione del DNA che può essere provocata in meccanismi molto diversi provovendo una riformazione che si chiama un adotto innescando degli caristi di ricarazione non che riparano introducendo però degli errori quindi è veramente vergognoso che ancora oggi qualcuno che per esempio Paolo è il presidente attuale di l'amir non c'è da preoccuparsi di questo spettro non ionizzante perché le regioni si vengono quelle radizioni ionizzate la successiva ecco questa ve la faccio vedere perché un altro concetto che mi voglio più rurreo è dei compiti di interesse che è l'altro grosso probleme che stiamo in punto allora Lorenzo Tomatis mi ha fondato in diretto per tutti anni la gianca perché io considero uno dei miei medico che ho avuto la fortuna di lavorare due volte a IARC proprio sui metalli quando è uscito da IARC negli anni 2000 ha pubblicato assieme a l'Agenza che era il direttore delle monografie una critica molto feroce di quello che stava succedendo ad IARC notate bene che IARC è una grande agenzia mondiale che si occupa di tumore da agenti ambientali che opera sotto le delle le prese tra gli altri dati che avevano presentato in queste due pubblicazioni del miglior 2 era la denuncia di un aumento della percentuale di membri dei gruppi di lavoro con compiti di interesse dal meno del 10% negli anni 70 a più del 30% negli anni 90 io come esempio mi occupo di campi elettorale di città tanto tempo conosco bene le persone che pubblicano in Italia e all'estero e ho pubblicato questo grafico che presenterò anche a Berna tra un mese che scriveva un gruppo cospicoli scienziati internazionali che sono andato a vedere i conflitti di interesse nel gruppo che nel 2001 ha dichiarato possibili cancerogeni 2B i campi a bassissima prevenza e nel gruppo che nel 2011 ha dichiarato possibili cancerogeni i campi ad alta prevenza già Florella prima ha accennato al problema che in questi gruppi ci sono persone indipendenti ci sono persone che dichiarano i loro compiti altri che non ne parlano allora parlate nel 2001 il 62% cioè i due terzi dei membri avevano laureato per le compagnie elettriche alcuni erano direttamente indipendenti delle compagnie elettriche nel 2011 il 21% dei partecipanti hanno dichiarato di avere confini di interesse ma se voi potete vedere con chi avevano pubblicato tutti gli altri trovate che meglio dei due terzi avevano avuto rapporti finanziari con le compagnie di telecomunia cellulare allora questo di per sé potrebbe non essere essenziale la valutazione del risultato cioè vi spiego perché è intuitivo il conflitto di interesse in certi casi è indipendente nel senso che un finanziamento da parte di privati per ricerche che il programma di produce può essere indipendente ma non rappresenta di per sé un prodotto di interessi finché l'interesse primario che è l'esito della ricerca quasi sempre legato ad un aspetto legato alla protena della salute è invece impliciato attraverso i meccanismi che coinvolgono il protocollo sperimentale che può essere fatto bene o male i risultati che si ottengono e l'interpretazione dei risultati non vengono sottoposti agli ingressi secondari dell'interesse allora lì sì c'è un conflitto di interesse quando l'interesse delle finanziatore sottomette e deforma il protocollo di registrare l'interpretazione e nella successiva vi faccio vedere un'altra elaborazione nostra già complicata in cui è impressionante vedere come nei settori chiave per la valutazione della cancerogenesi questa è la cancerogenesi sperimentale sull'animale i dati a sinistra sono i dati finanziati dai privati a destra quelli finanziati da reti pubblici quelli in nero sono i risultati tranquillizzati cioè nessun effetto quelli in rosso sono i risultati preoccupanti cioè effetti pericolosi della salute allora negli esperimenti illustrati da terremi che sono estremamente costosi prevale il grosso finanziamento privato ma i risultati sono tutti tranquillizzati il pubblico entra con pochi finanziamenti ma con pochi studi fatti sono con risultati positivi questi sono i dati che forse sono più attuali e più facili da capire sono i dati sui tumori alla testa da uso di cellulari anche qui sono dati di materiale perché mettono in gioco tutta l'industria che produce telefonini e soprattutto fai a buon ambiente la civilizzazione guadagna come si diceva prima è diventata superiore come è stata a tutte le grandi industrie l'automobilistica la petrolica eccetera anche qui il privato entra pesantemente ma con risultati caratterizzati il pubblico entra con risultati largamente positivi ed è soprattutto il gruppo di APE con tutta una serie di giorni noi stessi abbiamo collaborato con delle metanze e l'altro elemento essenziale è rappresentato dagli effetti a breve termine tra cui gli effetti genetici tanto vi dicevo prima quasi sempre parte da un danno genetico prodotto attraverso meccanismi diversi anche qui il privato entra con risultati tramite il pubblico entra con pochi soldi ma con risultati sempre positivi ecco questo gli dà un'idea dell'altro spazio che abbiamo di fronte nell'affrontare il problema dei limiti e quindi delle caudette a parte abbiamo visto grosse agenzie che sono immobili in una posizione dogmatica dall'alto una confusione creata dei risultati che trovati se ne hanno già i limiti che sono rimasti storici in laboratorio eccetera eccetera andiamo facciamo ancora un passo a parte l'altro punto che dobbiamo tenere presente come vi dicevo io non sono un tecnico non sono in grado di parlarvi dell'LTE e di che cosa questo produrrà però vi do uno spunto sul quale ragionare se andiamo a vedere come si è sviluppato come è aumentato l'inquinamento elettromagnetico questi dati poi vedete che già nel novecento quando Marconi ha fatto i suoi trici sperimenti il livello ambientale delle radiofrequenze era centomila volte più alto di quello che c'era rispetto scusate di quello che era presente rispetto all'inquinamento dovuto alle radiofrequenze dei segnali stellari è aumentato di altre duecento volte negli anni 80 subito prima del sviluppo della telecomia mobile e dagli anni 80 a 5 6 anni fa era aumentato un periodo e allora voi potete immaginare che se questa è la situazione di 10 anni l'introduzione delle ultime tecnologie dalle radiofrequenze non fa altro che spanda questo livello di comunicazione e l'altro punto che è cruciale è il fatto di la conoscenza di queste tecnologie da parte del pubblico è estremamente scarsa ed è continuamente confusa da notizie contraddittorie che vengono dati dai licenziati dalla stampa e dalla cassa di quindi la percezione dei rischi che ci sono e sono dimostrati della telecomia mobile è esattivistica perché si conosce poco spiegherà il sistema come funziona la connessione trancellulare e stazione radiomase di problema dei segnali forti dovevoli come questa influenza l'emissione di di dicemulare e la dipendenza psicologica oramai è direi più repressibile per cui non avremmo non usare il cellulare anche se gli si vede le persone di diventano veramente viventi devono pensare di si ripara di un po' di davanti dove ancora di più per i bambini che fanno pratica a capire il problema inoltre ci sono i conflitti di interesse dicevamo le notizie che ha mobilizzato la cassa di risonanza allora vi faccio vedere pochissimi veramente sono dei risultati questi sono una serie di dati di incremento del rischio la prima colonna indica l'incremento del rischio dove vedete scritto 2,7 vuol dire che il rischio è quasi triplicato 1,5 vuol dire che ha aumentato il 50% gli altri due numeri sono l'elaborazione statistica che dice dove potrebbe questo è il valore meglio dove potrebbe cadere da un limite minimo a un limite massimo e questi sono una serie di dati della scuola di 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 che i tumori maligni estremamente invasivi del cervello che sono un sottotipo dei di 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 i di addirittura quando il tumore si sviluppa sono spesso l'altro in cui avvicodate viene usato un cellulare il caso di brecce poi nella cassazione Qua se non vi è rinforzato, non c'è quasi di pubblicare, ma il limite va da più del raddoppio, il 95% di probabilità è che posso accadere da più del raddoppio a una settimana. Grazie. 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 Ecco, questo per farvi vedere cosa può essere uno studio corretto, uno studio passaggiato, uno studio in California, di cui avete sentito la parola, è finanziato e variato dalla comunità europea. Ve lo spiego molto semplicemente, questa linea orizzontale indica l'assenza di rischio, il rapporto tra il numero di tumore dei non esposti e il numero di tumore dei non esposti è uguale a 1, quindi non ci sono differenze. Questi sono una serie di dati sperimentali, lavori della scuola svedese di Arte, in cui vedete che la distribuzione del valore giudizio è sempre percentualmente spostata verso valori nettamente maggiori a 1, quindi con un incremento dei tumori nella lavorazione esposta, di cui le bande vere indicano la parte statisticamente significativa al 95% del valore giudizio. Questi sono lavori di Arte che riguardano tumori non della testa, che sono distribuzioni simmetriche con statisticità simmetrica. Questi sono tutti i 17 lavori del progetto di Arte che viene preso come indicazione di assenza di rischio e guardate che cosa si vede, si vede che il rischio non solo non è aumentato, ma è addirittura diminuito in quasi tutti i valori, anche statisticamente, come se l'uso del cellulare era un effetto progettivo. Ma se questo fosse vero, dovrebbe dire che il rischio non è aumentato, ma se questo fosse vero dovrebbe dire che il rischio non è aumentato, ma anche se dovrebbero dire che il rischio non è aumentato per alcune ore, il rischio non è aumentato. E se voi andate a leggere alcuni di questi lavori, scoprete che non solo i tumori alla testa vengono diminuiti, ma anche i tumori al peccato, i tumori al intestino, i tumori al menino. E se andate a vedere il protocollo della vostra proprietà, scoprete almeno 20 errori che abbiamo pubblicato sulle viste internazionali. Quindi sono i risultati che si scopriano. Questi sono i nostri ultimi lavori, tra i quali vi sottolineo un grosso capitolo di oltre 50 pagine, su invito pubblicato da opere delle maggiori case che pubblicano la doccia, che ci hanno scelto loro il titolo, cioè i pasticci, gli errori dovuti agli affari abituali di casa dei cambiamenti. I lavori che oggi sono citati in tutte le tassegne semplici. Ecco, quando è uscita la sentenza di Brescia, che era già una sentenza estremamente puntuale, perché aveva finicheggiato i lavori di Ardelli, che avevamo citato, lo specchio, a quelli di l'Italia di oggi, e aveva già introdotto il concetto di lavori finanziati dal pubblico, di lavori dal privato, siamo stati largamente attaccati, come vedete, questo è il lavoro dedicato da Susanna Ladorio, che assieme a Beroghisi è la consulente del Vaticano nella pausa promossa alle colazioni irradiate, l'uso dei telecini centrali, non aumenta il rischio. Questi sono invece commenti fatti da ricercatori che hanno fatto parte del gruppo Intercona e che dopo la conclusione del progetto Intercona hanno pubblicato una serie di critiche molto serrate, dissociandosi dalle conclusioni del gruppo di cui avevano da trovare. e vi sottolineo che Isabel Cardis era la coordinatrice di tutto il gruppo e che assieme alla salvezza di tutti israeliani ha dimostrato l'esistenza anche dei più nuovi la proteide e le diame italiane, ma ho esattamente citato la faccia e la serantina molto vicina proprio alle diame italiane. Questa è la sentenza di Brescia che è stata largamente pubblicizzata, Questa è la fotografia della IARC del 2011 che ha classificato come possibili cancerogeni di esattori intercellulari, ma sia Samet che era il capogruppo che è la presidente della IARC hanno raccomandato molta potenza. Questa è la sentenza della Cassazione del novembre del 2012, largamente pubblicizzata. e vi faccio vedere su un ultimo dato, non vedo le conclusioni. Voi siete molto interessati alle ammiglie delle istituzioni, no? Dalle istituzioni della Cassazione. Allora, è uscito, non molto, ma sarà sul posto, in questo lavoro, che la autrice, che è una donna, si chiama Pizzadonna, una tasegnata, sarà presente a Berna, tra l'altro giorno, e siamo invitati, con tre, a fare delle relazioni che dovrebbero a Berna. Lei ha fatto, assieme a questo grosso gruppo di ammigliatori, due cose, ma quattro tutte le antenne presenti a Berna. E continuamente, nei film di medici, hanno infatti tutti i casi di morte per il cancro della stessa zona. Guardate un po' giù. Questa è la mappa delle istituzioni radiomasi e delle antenne. E questa è la mappa dei morti di cancro. Vedete che esiste una zona estremamente densa, che corrisponde alla zona dove c'è la maggiore mortalità. c'erano altri dati di esigenza di risultato. Ma questo mi sembra particolarmente significativo. E' un tragetto risultato. E' un tragetto risultato. E' un tragetto risultato. E' un tragetto risultato. E poi vedete come i campi si sono concentrati proprio vicino all'antenne e ne vada la loro frequenza, decrescendo via via che ci sia lontana dalla stazione centrale. Quali sono i valori di campo elettrico? Sono raggiamenti inferiori tra il 0,3 o 0,6 su metro, che non sono quelli i limiti a cui dobbiamo chiedere. Concludo rapidamente con le tasse frequenti, non siete interessanti ai prodotti, ma ve lo segnano che su questo anche la magistratura ha fatto fenomeno. Questi sono i dati sui quali l'Italia si è basata, vedete sono due grossi studi con decine di migliaia di soggetti, il raddoppio dell'incidenza delle decennie infantile con intervallo statisticamente significativo, lo stesso dell'altro studio, sopra i valori, sopra il 0,4 e il 0,3 di protetta, non 3 o 10 o 100 come sono i limiti paudelativi. E devo dire che tutta una serie di studi che abbiamo fatto qui mostrano aumenti statisticamente significativi di quadruplicazione, di triplicazione e di quintuplicazione per valori sempre molto più bassi di un micro tesla, mi vedete indicato qui. E lo stesso vale per i tumori dell'adulto. Io sto facendo, davvero in calcio, soprattutto per il ruolo di nevito, io ho solito vedere tutte le persone esposte a stazioni di trasformazione elettrica inconsciamente, per esempio due pigliatre che hanno avuto per 10 anni in laboratorio, separato da parete di trasformazione, visitare i bambini sull'adulto, appoggiato da parete, che davano su una generale di trasformazione elettrica, ma non ha un frate, che io ci dirà l'altra, di un tumore cerebrale. Ecco, secondo me, segnalandomi che la magistratura civile fino alla trasformazione ha stabilito un principio, secondo me, che è veramente fondamentale, anche se intuitivo. Cioè ha stabilito che l'inibizione di line elettriche per esposizioni resistenziali superiori a 0,4 microtesta, pur in presenza di valore di protesta, chissà di a 10 o a 30 o a 100, può essere stabilita nell'udice quando si constata un aumento del rischio, guardate che non un aumento del caso, perché il giudice dice che quello che va tutelato non è l'effetto, una volta che si entra in un Stato, ma la situazione di rischio. E questa è un'altra sentenza esemplare, è stata pronunciata a Roma e poi invalidata a Milano, ma c'è stata una sentenza recente che riguardava l'Ono, il rischio di caldo, ma il rischio di cittadino. Anche in questo caso, come vedete, le emissioni sono intolerabili quando succedono a 0,4 o 0,3 di protesta. L'emissione che va in casa non è solo quella che produce un danno immediato, ma anche quella che comporta elementi di resistenza. Il danno, soprattutto il rischio, va per il punto e l'esercizio. Ecco, questa è la sentenza della Cassazione, il rischio di iscrizione del prodotto fanico qui per un rischio che si manifestava dai cittadini che lavoravano sotto delle costruzze, il rischio era un aumento dei casi di cittadini e di effetti. Vi faccio vedere un dettaglio per dirvi come, ancora oggi, siamo nel marzo del 2011, il Parlamento europeo insista nelle mette delle raccomandazioni estremamente in cui denuncia anche i conflitti di interesse della commissione europea. E quando è uscita la sentenza della Cassazione del Parlamento europeo, mi ha invitato a fare una conferenza di stampa in Parlamento europeo che è il sito del Parlamento europeo. Quindi esistono delle strutture interdipendenti di grande respiro che hanno una posizione europea. Questo è l'altro grande riferimento che abbiamo, è la European Environment Agency. Anche questa, su condizioni estremamente importante, con le chiamme di prevenzione e ai limiti che ho tenuto, 0,2 e 0,3 di protesta, 0,3 e 0,6 di buon sommetto. Questo è l'altro punto. In questo punto il Bio Initiative è uscito il primo gruppo del 2017, un gruppo in maggiore significato agenziale indipendente. E' uscito l'aggiornamento disponibile su internet, c'è un capitolo sui cittadini, in cui sono citati i finanziamenti, scritti da me, sono veramente i conflitti di interesse. Grazie a tutti. per chiamare la vostra attenzione e non ci ha risposto offre il pranzo non so che a dire la stanchezza è arrivata a questo mondo non vi garantisco che sarò breve anche perché l'intervento mira a fare tutto sull'aspetto relativo e quindi probabilmente vi diamo un concetto tornando la prima presentazione che è un responsabile dell'ufficio a me solo una parola per chi siamo questa società Polab nasce nel 2000 per volontà della coagulanza di un cuore scientifico e tecnologico in provincia di Pisa dalla provincia di Pisa del Comune di Cascina e viene fondata una società a esclusivo supporto del tempoologico per la gestione delle tematiche legate alla telefonia mobile per cui eppure essendo un ente privato ha sempre lavorato esclusivamente per gli enti locali e non per le aziende di telefonia mobile proprio perché la specificità delle attività era legata al supporto e alla pianificazione e alla programmazione del territorio alla luce delle novità introdotte con il codice delle comunicazioni elettroniche cioè il decreto l'ultimo citato con Gasparri che è stata con Gasparri visto che Gasparri non ha avuto il decreto di Gasparri in molta fortuna ma soprattutto alla luce dell'applicazione della legge 4 del 2001 che in realtà poi è rimasta orfana di decreti attuativi cioè nella legge 4 vengono stabilite le funzioni quelle che sono le prerogative di eventi locali sottroordinati cioè compiti delle regioni e compiti e possibilità dei comuni nella pianificazione di questa legge in particolare ma se indica la funzione della regione cioè quella di individuare i criteri localizzativi per l'installazione di miglia e demanda ai comuni la possibilità di dotarsi di un regolamento per la gestione degli stati il tempo del regolamento dell'assetto normativo è sempre stato parete generico io perché non ne abbiamo nel meglio di tutto l'assetto come dire organizzato in comuni però una cosa la vuole fare perché rispetto a quelle che sono state le funzioni assegnate dalla legge nazionale e comunque così come sancite e rafforzate dai comuni giamenti della magistratura e soprattutto degli indirizzi ormai del Consiglio di Stato che ha stabilito che un'amministrazione locale può dotarsi di strumenti aggiuntivi quindi del cosiddetto piano antenna perché ha dei requisiti particolari per la legge regionale delle miglia romagna in maniera molto peculiare diciamo peculiare da un assetto sicuramente può iniziare cioè quello della necessità da parte delle compagnie di presentare dei programmi che consentissero alla comuni di gestire il territorio questo è un diritto costituzionale la nostra costituzione l'ha facoltata a parte delle enti locali di commerciare il territorio e di programma vi voglio ricordare che la prima stesura del decreto traspare viene dichiarato incostituzionale proprio perché andava in denaro da questo principio assegnato all'interno quindi il fatto stesso che viene stabilito un periodo in cui i gestori presentano i programmi di sviluppo il comune ha la possibilità e un tempo comune per fare un'analisi di azione partecipata le attività svolte dal punto di colonia erano assolutamente comune e dodevoli beh la giunta regionale arriva con un provvedimento che viene perdonato in tempo e viene interpretato ma che era un pochino comoda come una deregolamentazione e un scavalcamento di quelle che erano di funzione dell'ente locale voglio ricordarvi che quel famoso capovesto della tribula di giunta comincia con le introduzioni che non solo non era valida nel 2010 ma non è valida a maggior ragione neanche oggi perché partiva dal presupposto che le rente di telefonia popoli sono di fatto concluse quindi stiamo parlando soltanto di pochi impianti a completamento per questo cioè con questa premessa diceva che è data la facoltà di presentare anche le richieste fuori da un programma annuale cosa non vera perché basta vedere quali sono i programmi di sviluppo che avevano annualmente negli uffici di tutti i comuni e quindi anche del postro sicuramente c'è la necessità di una concertazione ma perché dicevo a maggior ragione oggi con l'affetto della nuova tecnologia LTE non si tratta di una complementarietà si tratta di rifare la rete ex norma la tecnologia LTE definita come 4G è la prima rete globale mondiale è l'unica tecnologia oggi che è la stessa dal Giappone agli Stati Uniti passando per l'Europa e l'Australia quindi vi rendete conto che la fase di implementazione delle LTE prevede una riprogrammazione del territorio ex norma e quindi non stiamo parlando di rifiutura e lo testimoniano per esempio le 70 richieste io credo che siano poche le 70 richieste che sono arrivate a 1.12 e alla luce di questa implementazione e alla luce delle caratteristiche della 9 tecnologia che se volete vi presento qualche caratteristica attua una contropotendenza rispetto a quelle del passato noi del passato cosa è successo? è successo che la telefonia mobile è andata via via utilizzando frequenze più alte e che restringevano le aree di copertura e in questo genere le aree di copertura significano ad utilizzare piccole potenze quindi tra l'altro le tax ormai per fortuna hanno avuto il gestionario di spesso ma il GSF il DCS 12 band l'OMDS hanno via via ridotto in termini di potenza ed è stato il motivo per cui abbiamo dovuto trovare soluzioni del centro urbano in una rete parecchio finta ma giusto per tanti dei termini di confronto il GSM portava a bordo un impatto con le potenze di emissione dell'ordine di 60 watt con l'OMDS 18 watt quindi capite come si aggiungevano piccole sorgenti a strutture già esistenti con l'OMDS c'è una decisa emissione un impianto in LTE significa 140 160 watt di potenza quindi il GSM il GSM è messo assieme mentre questa azione cosiddetta e quindi ripeto l'indicazione dell'aggiunta regionale non solo è opportuna mi permetto di dirlo nel caso di tutta Italia ma non è neanche stato molto importante perché molte altre città anche molto vicine a Bologna hanno continuato a verificare chiedendo i piani di sviluppo i gestori si sono adeguati anche perché a fronte dei ricorsi lunghi o di opposizioni e con strumenti così deboli non avrebbero voluto fare fronte a una protesta da parte del territorio che vuole verificare quindi se mi posso permettere un invito io prenderò la concertazione e i piani di concertazione con i cittadini e chiedete i piani solo ai gestori perché è giusto che sappiate che cosa arriverà sul vostro territorio l'LTE non sarà una tecnologia che porterà con un punto trascurabile agli impianti esistenti raddoppio alle potenze e mettere l'accordo tra operatori di due anni fa che li porta a condividere i siti perché tre sorgenti di 18 watt fa 60 watt ma tre sorgenti di 140 fa 500 watt è la stazione radio-operativa insomma non stiamo parlando di siti che si possono prestare a questa implementazione mantenendo che seppur non condiviscono la comunità scientifica i limiti di cautela dei 6-8 metro questa affermazione trova rafforzamento nell'ultimo intervento fatto con l'agente digitale come è stato ben spiegato prima che di fatto prevede un innalzamento dei limiti di legge anche se è stato scritto che non ci sarà innalzamento dei limiti di legge sapete benissimo che la telefonia mobile funziona con le mani se io sto telefonando si attiva un fatemi dire canale si attiva un canale il canale emette un segnale e l'emissione dell'antena sarà proporzionale al numero di cellulare che parlano di notte le attende sono praticamente spenti quindi se io confronto con i limiti di legge la media su 24 ore mi posso garantire che ho fatto un esercizio se non c'è più posso avere per 8 ore 18 po' su un metro e riesco sempre su due leggi e non è poco non è poco cambiare un metro cosa ancora più grave è che a seguito dell'approvazione di questa misura per dicembre scorso ancora oggi non ci sono le guide operative che si aspettano le armi ma paradossalmente noi siamo in una situazione di giudicare quando l'altro è quello strumento di controllo o fare una verifica una misura con la vecchia metodologia ma non trova riscontro dalla norma di metanama oppure se devo inventare una metodologia per fare una valutazione in termini di misura cioè un post installazione allora molto brevemente vi ho portato ma non per la regola se volete vi lascio le slide vi lascio le informative ci sono sentenze che dicono che si può gestire solo con un regolamento quindi un regolamento di stampo urbanistico installazione di telefone mobile che avete visto anche qui se voi volete una limitazione che a priori possa spostacolare del regolamento della rete il regolamento viene impugnato e satta e quindi non c'è nessuno strumento mentre è possibile andare a una pianificazione cioè a un rafforzamento del regolamento mediante strumenti che non solo ti permette di programmare ma deve essere ovviamente rispettato l'interesse nazionale della fluidità di esempio quindi che i siti che va a proporre un'amministrazione vengono validati dal punto di vista tecnico che vuol dire validati dal punto di vista tecnico visto che pure abbiamo fatto già un buon lavoro io lo definirei con tutto rispetto un buon lavoro di base ma ci sono molti altri strumenti che possono permettere di sapere uno qual è l'impatto elettromagnetico del territorio in una visione globale complessiva due avere un'idea di quali servizi sono già copertici le famose ma per cui se oggi un operatore vi presenta le aree di ricerca è chiaro che io mi fido di una grandezza come diceva l'assessore che molto contende dei quadrati dei cerchi molto piccoli non ti puoi muovere non ti puoi muovere se non sai qual è la di copertura dei servizi già esistenti vi faccio vedere questo per andare molto velocemente vado velocemente agli strumenti poi se ci sono delle domande possiamo anche parlare questo è il discorso dell'evoluzione beh io parlo di rappresentazioni tridimensionali dove vediamo edificio per edificio cosa è interessante e che misura è interessante vado un po' le simulazioni fatte vedere prima dell'arpa in due lì che possono essere riproposte sull'intero scenario possiamo vedere i limiti di legge questi famosi i fogli sono i loghi di radiazioni a 6 volt su un metro possiamo evidenziare le caratteristiche delle altre sortientate come una stazione ferme come altri tipi di impianti che vengono trasformati solo perché non conosciuti e soprattutto si può andare a realizzare le forze fabili di copertura vi faccio vedere qualche altro disegno che è un pochino più esplicito ecco come dicevo su uno scenario territoriale una volta simulato l'esistente io posso già individuare quelli che sono i punti dove avviare indagini dove avviare avviare alcuni toraggi o comunque da tutelare nel caso di nuove richieste se lo vedo lo so se non lo vedo è difficile estamolarlo da semplici progetti e posso fare le banche di copertura che evidenziano le aree dove non c'è una opportuna copertura dei servizi su questo vado a dire solo una parola cosa è oggi copertura dei servizi è un dato quantificabile perché emerge da un protocollo internazionale in cui gli stessi operatori sono stati attenti c'è un numero rappresentato in questo curatorio attuale c'è la possibilità di avere questo tipo di analisi del territorio per l'operatore che fa il suo mestiere molto spesso la copertura è la possibilità di dare il servizio a tutta l'utenza quella si chiama capacità di traffico è un centro fondiente con la copertura dei servizi per esempio che facciamo sempre questo il vostro stadio quante persone contiene 50.000 che facciamo un esempio classico lo stadio San Siro Reanza di Milano 80.000 persone non c'è nessuna rete nessuna teca che può veicolare particolarmente 80.000 telefonate possiamo dire che lo stadio San Siro con tutti i piedi anni che procede per portare il traffico in zona di copertura non lo possiamo dire è un caso estremo ma rappresenta la differenza tra cosa può dire essere coperto cioè aspetti 10 secondi e parli dall'avvento di fornire tutti i servizi contemporaneamente a tutta l'utenza l'utenza che diventa l'evento stimolante dell'operatore il piano arriva perché vince il business non perché pensa che ci sarà proprio l'utenza che chiama il piano quindi dicevo da quelle che sono i vostri vostri strumenti mi sentirei sinceramente di come dire di stimolarlo a continuare sia nell'azione di pianificazione guardate che la vostra legge regionale non è impostata male perché conosco tutte le leggi regionali ma con poche modifiche presentazioni che tengono conto delle esigenze portate dalla tecnologia che sono recentemente hanno fatto altre due regioni potrebbe essere non solo operativa ma molto efficace come governo a supporto del governo del territorio le coperture e gli infatti elettromagnetici che possono essere fatte non solo sull'esistente ma anche su tutti gli impianti sulle voze di localizzazione mi dicono con un largo anticipo cosa sarà lo fatto sul territorio che si trova soluzioni non solo di minimizzazione delle nuove richieste ma guardate anche quell'operatore a volte è importante che c'erano un'indicazione su eventuali rinvocazioni o dialogalizzazioni perché riguarda meglio la vera che va più così perché riesce a fare la maggiorità quindi i due strumenti del fatto del propagandolo della cobertura dei servizi diventano due dei tre indicatori che vanno nella direzione dell'amminizzazione l'amminizzazione è anche qualcosa e anche sapere prima quanto si accendono i clienti nel funzionamento della tecnologia ma sapete tutti vi immagino che se il mio cellulare ha cinque tacche perché diciamo che ha un buon campo vuol dire che basta un piccolo segnale dall'antenna e io riesco a comunicarla se io mi allontano vado a tre tacche l'antenna sta emettendo il massimo del suo segnale per farmi passare se io mi allontano ancora di più vado a due tacche o una tacche da quel momento poi l'antenna non può subodulare ma chiede al cellulare di parlare di più ed è il motivo per cui il cellulare in zona del cuore a cobertura emette il cellulare che abbiamo facciato alla testa se qualcuno ancora non ha preso la più bella abitudine di usare un auricolare a spino emette 0204 ma quando io ho due tacche sono 80-85 quindi sono 102 watt di segnale e mi roda appoggiata alla testa allora quando si parla di minimizzazione non è soltanto il concetto posizioniamo gli impianti in modo che emettano meno possibile sulle case perché l'equazione è diventa semplice la distanza diventa il parametro di terra in realtà non funziona così faccio vedere questa simulazione ci restituisce quanto si accende un'antenna in funzione della distanza dei cellulare per spiegarla se tutti i cellulare fossero delle macchie azzurre l'antenna farebbe parlare a tutti gli impianti di cellulare con il 10% della sua potenza quindi si accenderebbe con 10 se tutti i cellulare fossero nella zona rossa allora l'antenna per dare segnale a quella zona deve accendere tutti i canali con la bassa utenza quindi vede che se io ho qui un'utenza sensibile questa non sarebbe stata un buon servizio cioè io ho posizionato magari non tanto indietro alla protesta o alla localizzazione facile gli impianti più lontani possibile ma di fatto faccio correre il rischio a quei cittadini che stanno tra gli obiettivi e gli impianti perché si accenderà sempre il più ma soprattutto la prova anche di cellulare che si accenderanno nel più vedete questo è invece quanto mi metto il cellulare in funzione della rete e ci restrisce anche i condori in buona conversazione cioè se io avendo da queste parti e vado a lavorare qui avrò un cellulare che si accenderò una volta alla settimana e avrò un rileggiamento significativo che mi metto solo la disgrazia di vivere e lavorare da queste parti con questa rete avrò un cellulare sempre con poche tranche sempre molto potente e soprattutto stipulerò l'impianto a funzionare più possibile quindi mi metto assieme su un'unica fase questi risultati che poi sono stato un po' bravino ho fatto un resto un resto un resto grazie grazie dottor bene io ho con il senso che mi piace molto farlo adesso grazie presidente intanto anche grazie la dottoressa la bellissima presentazione che ci sono dei riscaldati che noi medici conoscevamo già ma che purtroppo la gente comune non apprezza noi della classe mitica ce lo diciamo da noi che non sono le interne ma c'è il successivo degli apparecchi telefonici e mettiamo dentro anche i cordless determinano delle alterazioni che ormai ho detto le biblicine non sono scientificamente provate ma non è vero non è vero perché è stato progresso a novembre in CERIS il portavoce Giuliani si è venuto a Roma e l'International Commission of Magnetic Safety chiamato ICEMS e gli esperti dell'ICEMS a Roma hanno presentato 15 studi internazionali bellissimi di cui il professor Lewis ha portato quelli di Lennan Hardell del Dipartimento di Oncologia dell'ospedale universitario di Arevo che non ha alcun conflitto di interesse e ha calcolato in conclusione il congresso la congresso adesso questo ha calcolato che usare per più di 10 anni telefonini o parecchi cordless appoggiate sempre con le stesse orecchie molti che sono 15 internazionali non sono uno 5 volte il rischio di astrocitomi o i nomi dell'acustico sarebbe bello fare un discorso con gli otorini i miei colleghi otorini del Maggiore mi dicevano che stanno vedendo un aumento sarebbe bene incontattare anche loro delle e di delle paratiroidi a livello della parte destra non solo tanto che io osservo sempre comunque il metodo Galileiano quindi non piacchere ma basi scientifiche non scritte su novella perina non lavoro ma io mi vado sui miei testi scientifici sul patrofisiologi mi scrivono che il pericolo è massimo per gli adolescenti per i bambini quindi benissimo quello che diceva la professoressa Belpoggi bisogna cambiare una certa cultura bisogna insegnare nelle scuole che potrebbe esserci questo rischio che appunto oggi gli scienziati stanno dicendo attenzione perché nell'atto cresce con l'aumentare delle ore di pieno cresce se il telefono viene sempre usato nello stesso lato e sempre da questo congresso ai casi studi scientifici risulta l'entura che utilizzare il telefono cellulare all'interno dell'automobile potenziale di cento volte mi se sbaglio mi conti ma è così perché gli studi scientifici ci dicono che è così e non i giornaletti e in treno anche e in treno e in treno non solo non solo ma gli scienziati hanno pubblicato su Criptio che c'è una sentenza della Corte della Cassazione del 12 ottobre 2012 quindi recentesima sei mesi fa che ha stabilito un legale di concausalità tra un forte uso del cellulare e il tumore e avvertono e avvertono che le emergenze tra le scarse prove di rischio evidenziate dagli studi sovvenzionate dall'industria e purtroppo l'alto rischio è emerso negli studi indipendenti quali quelli di Lennart quindi io ringrazio i relatori perché gli studi internazionali ci dicono e i medici sanno benissimo cosa vuole dire la severe sensazione del cellulare come provare le cancerogine in classe 2A quindi a sé per noi medici alta basata su evidenze in vitro e in vivo perché ci sono dei meccanismi biofisici e biochimici che possono esser più volte guardate i soggetti dei tuoi perché grazie a tutti i professori che hanno ribadito in questa utilissima udienza conoscitiva quello che la classe medica sa e sa dà anzi in Francia è in discussione è in discussione proprio in un testo di legge di riterare da popolazione adolescenziale proprio che vediamo spessi un testo legato all'elettromagnetismo e ne ha relato il ministro dell'innovazione Fleur Pellerin perché purtroppo è risultato un'indagine francesi pubblicata sui libri e listici di nostri che purtroppo il 75% dei giovanissimi francesi dorme con il telefonino acceso su un cugino con un altissimo rischio di tumori dell'innovazione generale di quale il clio grazie ecco volevo sapere solo una cosa dal biologo professor Reis perché volvo l'opportunità per chiedere una domanda purtroppo specifica ma che a me è un domenico che interessa moltissimo noi utilizziamo i CENF i campi elettromagnetici impulsati nella guarigione delle fratture sa qualcosa in merito alla possibile noncettività del campo elettromagnetico pulsato perché sappiamo che favorisce l'osteogenesi ma può causare anche dei danni da un punto di vista tumorale in un punto di vista negativo sono pulsati anche i campi visite cellulari sono pulsati anche il professor Levis che chiede un dopo rispondo perché andiamo per prendere perché niente sfidore anche ci sono altre domande prego andiamo sì grazie dunque io ho capito per sommi punti riassumendo in un minuto due ore molto interessanti io ho capito questo il punto uno è che l'effetto negativo dell'elettromagnetismo sulla salute è praticamente un dato certo quindi che siano basse frequente che siano medie alte altissime ionizzanti è conclamato ma comunque anche sotto l'effetto negativo dell'elettromagnetismo sulla salute è qualcosa di certo per cui il tema è fondamentale in grande costruzione il secondo punto è che stiamo combattendo una lotta difficile con un potere grossissimo che purtroppo ha a che vedere con la nostra salute questo emerge da due cose il primo è che i limiti di legge sia europei che nazionali sono eccessivi altissimi e che non c'è volontà di calarli anzi per evitare l'impatto dell'opinione pubblica di aumentarli si è cambiato il metodo di misura lasciato più uguale probabilmente quindi aumentano quindi il nuovo viso di misurazione della nuova legge italiana oltre che essere praticamente non implementabile è assurdo e nei fatti aumentano questi limiti e suppongi aumenti in vista del nuovo campo dell'LTE perché siccome si diceva i nostri ospiti prima l'LTE va ad aumentare le potenze è chiaro che domani i limiti di legge dovevano essere aumentate per essere compatibili quindi si è applicato la misurazione per poter entrare in vista nel passaggio tecnologico poi su questo chiedo se è un'interpretazione giusta che può essere potermente giusta ovviamente oppure no capisco anche il terzo punto che i comuni possono fare qualcosa e qui chiedevo al dottore della Colab se poteva tornare sulla slide dei regolamenti comunali approfondendo quello che possiamo fare esattamente e quello che non possiamo fare la slide l'ho vista ma è passata un po' velocemente e poi volevo quindi sentire dalla Sessore Cabellini sulla base di quello che possiamo fare come vogliamo muoverci visto che il torturo si aveva parlato anche di questo di parte della legislatura regionale e poi soprattutto capisco che il metodo non è banale anche l'interfaccia con i cittadini perché non basta dire mettiamo l'antenna più lontana mettiamo l'antenna più alta perché poi ha un effetto sulle estrazioni trasmettenti che abbiamo in mano perché poi a loro mettano la loro potenza quindi mentre il cittadino tende a voler allontanare l'antenna bisogna spiegargli e capire qual è invece il punto di contatto tra il posizionamento dell'antenna che non necessariamente riduce i suoi effetti nella lontananza perché poi l'intro lo c'è quindi è un tema anche difficile comunicabilità ecco io ho ho emerso quindi proprio diciamo riassumendo massima sintesi tutto quanto è stato detto stamattina io ho individuato questo punto quindi chiedevo riassumendo se il discorso del un cambio nel medio del medio del medio di misurazione può essere è un'ipotesi plausibile ovviamente nessuno mai lo saprà potrà confermare al 100% che sia stato fatto per evitare di scontentare l'opinione lumica andando a cambiare i limiti lasciando di cui lasciando di un variato modificando la sostanza aumentando la sostanza in vista di quello che sarà un problema di aumento passando la tecnologia LTE questo non so se chiese la risposta sia come chiese con gli altri che se davvero il valore di potenza aumenterà la tasca e qui siamo davanti a un passaggio bruciato molto pericoloso è un passaggio non banale quindi anche il discorso dei dispositivi LTE che poi saranno con noi nelle nostre tasche è quelli con cui il cliente avranno se abbiamo 140 lato la stazione base alla distanza le celle saranno più ampie le celle quindi le stazioni trasmetteranno potenze più alte non sono i servizi però le potenze dei dispositivi mobili poi aumenteranno anche quello e quindi questo è il punto sul cui bisogna ragionare e quindi allora a questo punto più che mai deve essere urgente fare quello che possiamo fare per questo chiederemo di soffermarci un attimo tutti insieme sulla proposta che faceva il dottor Turco e poi sentire insieme all'assessore e magari anche i tecnici competenti visto che abbiamo il dottor Farina che cosa ne pensa anche lui della proposta contenuta c'è un po' se dire anche voi su questo basso grazie se ci sono le modifiche come va accennato possiamo anche spiegare con la regione in qualche modo faccio suggeritori di queste modifiche che il dottor Turco suggeriva comunque grazie alcune cose possiamo uscire vedere il dottor Turco suggerita quindi rispetto all'approccio una pranzia di bici e lavorare tecniche di tutte le esperienze e di tutti quello che ha fatto di questo l'elega che è cotto che c'era con quindi mi sembra che questa cosa mi chiede il dottor Piazza vado mi cercano per la direzione di trovare le migliori condizioni e situazioni età comunque ci sono alcune domande se ne sono andato andando direi se velocissimamente può rispondere al professor Redis che ha chiesto e poi il dottor Turco perché poi dovremmo concludere con il dottor Irone il dottor Irone e l'assessore di Avelino e prego professore prego le onde in estate significa che la professore mi piace poco perché la presenza porciante che è la ma è interrotta teoricamente c'è parte di da delle frequenze bassissime questo per telefonia anche correggevi permette di utilizzare una frequenza per più telefonate contemporaneamente e è stato creato per rendere più positiva non so assolutamente come sia passata l'altra frequenza che viene usata in terapie non ho mai visto dati su effetti non cibi della radia della radia di mia risposta permettetemi di dire una cosa complimenti per la preparazione che consideriamo con altri spessi dell'administrazione non è comune trovare funzionari preparati e interessati a questo appoggio allora ci permette anche di dirvi la conclusione per quanto si riguarda dei consigli su cose satisfatti perché è chiaro che si può andare ad abbassare i limiti di la legge che è decisa da anni però ci sono delle cose che potete fare primo da anni è stato adesso avuto un decadolo sulle misure cooperative per l'uso del cellulare i medici di base austriasi sono stati i primi poi l'abbiamo denato noi l'abbiamo denato la cuora l'abbiamo diffuso con delle lezioni che finisse e i medici di parte dovrebbero essere aiutati a esporre questo di campo proprio da parte del comune a parte della coppia o un volantino su cui di modo che gli data il medico di parte lei c'è il strumento di dice perché devo tenere il cellulare a un centimetro che c'è scritto già nel bugiardino del suo cellulare perché non posso usare il cellulare in treno devo usarlo solo se proprio è necessario allora questa è la seconda cosa noi a Pado con la nostra associazione che è giunto con la scuola facciamo tanti interventi di tanti simili su come pesanti approfitti cioè andiamo nelle scuole d'accordo con gli insegnanti che facciamo anche dei piccoli esperimenti per sapere che c'è l'esitismo come il maglietto crea un'onore intellettrica che c'è l'eserza andiamo comunque già conferendo una centralina per le misure e facciamo vedere come va la dimensione del cellulare a seconda della vicinanza della nostra classe e facciamo il questionario per capire che cosa sanno e che cosa imparano e che cosa sta anche la pandemia e questo da 10 anni sta rialzando lo strumento che il comune finanzia e che è il comune di me terza cosa si parla di wifi nelle scuole evitate di installare il wifi perché non ce n'è assolutamente bisogno se avete il collegamento avete in tutta la prova si sta facendo altri centri altri centri i bambini hanno bisogno di trasmettere i dati ma velocità giusto se no c'è un collegamento a filo o sottolinea di fare quindi collegamento all'internet senza bisogno di rilasciare ultima cosa insomma l'ultima parte o c'è il silenzio dell'attene cercate di applicare i principi di pulco di a me ultimissima cercate di organizzare un bel convegno con il comune inventati anche in campo delle persone da parte compagno magari di comunità o dell'istituto superiore che la disposizione degano iniziativa con interesse da parte del comune a governare sapete che è poco che sono a noi grazie professore ho la prima dell'assessore per la chiamata e dopo di lei non parlare anche perché è preciso che questa è una materia che vi deteste adesso come vi ho detto sono la propria competenza che riguarda l'ambiente quindi su questo che dal punto di vista da questo punto di vista va tutto in corpo e abbiamo cominciato a lavorare su questo e se ne siano altre cose innanzitutto il fatto che con le nuove tecnologie vanno bisogna adeguare la distribuzione che avevano in terra e la distribuzione che avevano ormai che ci hanno fatto quindi avevano un problema di adeguare la distribuzione sul territorio questo grazie adesso in maniera evidente dalle richieste che ci sono problemi soprattutto perché riguarda la parte centrale della città sulla quale si giocano molti interessi e quindi abbiamo in generale un problema di di revisione diciamo dei siti e nella regionale del concorso di la in generale nello specifico abbiamo un problema dell'area centrale di e su questo abbiamo cominciato a lavorare con diversi assessorati diversi settori ovviamente questo di specie di regione importante si è cominciato a lavorare per poter individuare i luoghi e i luoghi nel nostro esempio e siamo prossimi a produrre una proposta che servirà nel suo necessario di quindi il tutto ma c'è anche il come questo era compreso un fatto in Cinefarina che mi ha mostrato quale sia una peculia verità di questa città che è tutelata e da un po' di tempo a questa parte emerge una domanda di intervento a fronte dell'installazione di oggetti impattati non solo dal punto di vista della salute ma anche dal punto di vista paesagistico ambientale che c'è il problema di quale configurazione dove e con quale configurazione collocare queste ondelle e qui abbiamo un rapporto con la soluzione perché non ci vanno incontrare a breve di questo punto di argomenti per trovare delle soluzioni che siano che rispondano a sincerità di salute di efficacia rispetto alla trasmissione ma anche di impatto per rispondare alcuni pochi di andare in alto dove come dispone però come possiamo leggere farina disponiamo di questo software che ci si dava forse quello in 3D è molto importante nel caso della cittadessa della parte centrale e quindi credo che abbiamo gli strumenti per poter coordinare delle scelte e trovare anche delle soluzioni che possano far produrre diverse società che abbiamo poi noi sul PSC arrivavamo già sul piano strutturale il locale sul naturalismo anche questo è stato detto dalla regione di panice trovavo definito luogo sensibile quindi allora il PSC è vicino anni fa l'adocano individuato le scuole ospedali per i malati e i bambini che avevano arrivato nell'estate e oggi fosse parte dell'estate quindi questo è una conclusione di diciamo ma adesso abbiamo la priorità della parte centrale perché c'è una scuola unita e soprattutto se non la governiamo ci volta a queste soluzioni che sono solamente nella logica del confermere che ci vanno in questo momento quindi qual è la probabilità di questo momento però evidentemente c'è anche una questione che non è solo il posto è distante da investazioni che devono avere questi impianti quindi posso dire che la nostra scuola si ha un struttore competente e importanti per cui abbiamo gli studenti e ci vogliamo fare a nuovo che si è appreso questa cosa e l'altro sono di cosa è assolutamente quindi dove passiamo cosa stessa dove passiamo con l'un allora stiamo fresco allora vi dico subito che stiamo fresco perché non abbiamo un soldo ma che come territorio provenito l'istituto della Balsini ci ha che abbiamo un'arma un'amore che ha venuto degli altri comunque siamo su disperato scritto questa stessa situa invece chiederei davvero se ci potete lasciare però questo perché ci sono passaggi perché ci sono cose che vogliamo da parte di futuro da studiare quindi avere una presentazione a prima dispensare e quindi vi ringrazio sul curso ho imparato molto grazie 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 Grazie. Guardate che i siti sensibili non sono le scuole, le sede sanitarie, sono le case, sono tutti gli edifici dove si dorme, dove si vive, dove stanno i nostri figli. Il concetto di sito sensibile è stato mutuato da una infrastruttura della destituzione delle lecce. Per cui la distanza era un parametro di tutela e allora si diceva attenzione, non lo facciamo passare questo tra lì, ci perdono lontano dalle scuole, non la mettiamo la riscaldina, lontano da un sito sensibile. Con la telefonia mobile, il tuo parametro significativo non è una distanza, ma il livello di raggiamento, questo lo vedete subito, se avete lo strumento incredibile, io sono contento che possiate vedere immediatamente, secondo la tecnologia degli impianti, quali sono gli edifici veramente impattati. Ma che facciamo? Per dare il 0.3 a una scuola, diciamo 5.9 a un condominio, insomma sarebbe un diritto all'unitario, quindi anche il concetto di gestione dei regolamenti con le impostazioni che derivano dai tentativi di un approccio sono largamente misurati. Oggi i migliori siti è la mia verificazione, non è quella che pone i vincoli, è quella che pretiene l'installazione sapendo qual è la localizzazione che viene, non è il valore, non è niente. I supporti di ARPA e di ASDOL, secondo le 12 proteano, molto spesso diventano un vincolo in questa direzione, non me ne vogliano gli amici e colleghi delle ARPA. Dal momento in cui l'organo di controllo è chiamato a dare un giudizio di continuità ai limiti di legge, cioè deve dire sì e conforme ai limiti di legge anche se è 5, 2, 3, 8, ha difficoltà molto spesso ad attuare l'azione propositiva della soluzione alternativa, della soluzione che tiene conto, non dell'aspetto prettamente tecnico, ma di tutto quello che poi affrontato quotidianamente, l'aspetto sociale, l'inserimento in un contesto che può avere altre problematiche, la relazione con gli operatori, noi diciamo sempre che se il nostro lavoro fosse predigere in piano, noi faremmo un terzo delle nostre attività, sarebbe un lunghisto, sarebbe un esercizio. In realtà la difficoltà è il calabio sul territorio, è il fatto di persone, sensibilità, con domini, in relazione con gli enti locali, in relazione con l'assessore, con il consigliere comunale, cioè la vera difficoltà, che è un problema che è gestito e che è già gestito da tempo, è la relazione con il territorio, quindi forse il giocollo alla fine è solo ad un tanto trovare la minimizzazione, quando il migliore di inserimento sul territorio, l'ho visto a 10 anni. Sì, è possibile che la tecnologia della tecnologia non riesca a trovare alternativi a quelle che sono le possibilità di trasmissione di calutazione del segnale di oro, che sia maggiormente aggrazioni del segnale di corso. Questo ha avuto un po' di, quando noi abbiamo avuto un po' di meno illuminati, è stato il nostro momento, poi è stato il momento della calabio della politica, quello di passare dalla tecnologia. Allora, avendo questa consapevolezza, non credo che la passione andrà proprio in fase di corso. Io non credo che non sia possibile telefonare per un telefono con un minore impatto. Io sono sicura che c'è già qualche possibilità di poterlo fare questo lavoro. Però lei, però lei, se non c'è un problema, perché io divento più cattiva se so che è questo. Cioè, se è vero che tu guadagni migliaia di euro di dose grazie a questo debattere, tu mi esponi tutta la popolazione, pur almeno nel cassetto qualche cosa, potrebbe dare più garanzia. Allora io, che sono un tecnico della salute, ti vado addosso dalla mattina alla sera, non ti perdono niente, perché non puoi, se è un corso storico, ci si vuole un pochino per insegnare e iniziare. Ma secondo lei, c'è un corso. Prego, dopo di che cerchiamo di chiudere? Sì, ci sono delle scuzie. No, no, no. Credo che sia importante. No, è una domanda legittima. Le rispondo con due notizie di dieci giorni fa. Telecom ha annunciato l'avvio dei servizi in fibra in mille città italiane. Quindi, la parte di Telecom che gestisce la rete fissa ha detto, ora il servizio a banda larga, largissima, noi l'abbiamo con la fibra. La parte mobile della stessa società ha detto, siamo partiti con le 40 città in effetti. LTE oggi, non è una telefonia di parte generale. Le ve le dette propriamente. È un tremere. Cioè, oggi vedi con la sentenza a banda larga in mobilità. Avete visto i tablet che vengono dal cielo? C'era un boa con la bandino che oggi buon si è stato facendo avanti e indietro velocissimi. Siamo veloci, velocissimi, velocissimi. Ma per dare il servizio della condizione dati. Quindi, se lei mi dice, oggi potremmo differenziare la connettività dalla comunicazione cellulare, invece c'è già la rete GSM che fa questo servizio. C'è una rete o MTS che è evoluta nell' LTE che fa il secondo servizio. L'operativa si chiama Fibra Ottica. Cioè, vuol dire, se io mi trovo all'interno di un'abitazione, posso benissimo avere lo stesso servizio, anzi magari maggiore, senza bisogno di muovermi con il portabile per casa senza router. Ecco, quindi la risposta è sì. Però c'è da dire quello che stavo dicendo qui. Tutte le tecnologie stanno evolvendo sul modello globale. Ecco, perché qui vale anche la seconda risposta. E, dal mio punto di vista, lo gestisso su questo campo, avrebbe senso risolvere switch off come è stato fatto per l'inferitazione televisiva. Cioè, se si disse un tempo dentro il quale GSM, DGS o MTS viene spento, non è rimane, non viene soltanto l'LTE, poi avremmo un'unica tecnologia che sovverisce a queste tecniche. Il vero uguale è che oggi, quando si affrontano un piano delle città, si affrontano dieci reti, perché si affrontano per quattro operatori la rete WMTS, e per tre operatori il GSM e il DGS, poi aggiungeremo le quattro reti, che è di fatto un impatto determinato da una serie di sistemi che ripropongono gli stessi servizi, in funzione della diffusione decennulare. Se noi, come dire, potessimo decidere in questo contesto e dire in ambito domestico, o comunque all'interno degli edifici, la banda lana viene diffusa esclusivamente, viene portata esclusivamente con sistema a fibra, e poi all'interno dell'altra casa abbiamo deciso di avere il fungerino, o se attaccarsi alla rete. Allora, a questo punto, mi impianta la sola posizione e mi impianta di utilizzare il GSM. Bene. Il GSM? Previssimo. E chiaramente inizio ringraziando tutti i suggerimenti dati, perché per me questi sono. Io mi limito a dire quello che mi aspetterei da una evoluzione normativa. Per me la legge 4 citata in questo slide, in questo bellissimo coma, sesto, articolo 8, lo ritengo assolutamente insufficiente. Ovvero, poter fare un regolamento è la classica concessione di una legge nazionale, che è una legge 4 sicuramente nazionale, che non dà in realtà nessuno strumento al comune. Allora, è importante dire che il comune può fare dei regolamenti se poi non ci sono degli strumenti interattivi veri. in quanto, nella pianificazione delle regole, i soggetti sembrano tre. Comune, proprietari e gestori. Ma in realtà sono due. Proprietari e gestori comuni, ogni volta che cercano di dire delle cose che panno alle regole, allora non possiamo realmente fare cose. Bisognerebbe riuscire a dire a livello domandico, all'inizio regionale, perché sono più vicini con la realtà che è qui a Bologna, dei possibili strumenti per cui il comune possa fare cose. Interrompire sulla regolazione. Ad esempio, io posso dirvi che a un regolatore questo è un sito, ad esempio un sito privato, bene, con l'estrompio oppure ti può regolare l'accordo tra il tuo dato e il concessionario. Come? Almeno con un importo sul contratto dell'operazione. Perché al finitivo, come posso dire, tu vai a casa dell'altro sempre e per i prossimi 50 anni come il paro con le emisioni, qualora quello sia come scelto come il sito privato. Sono esempi, e potrei andare avanti però un'ora e tarda, per dire che bisognerebbe che il risultato normativo migliorasse molto in questa direzione e fare un piano è veramente difficile, in quanto io per ogni interlocalizzazione degli impianti devo andare a regolare il rapporto tra soggetti privati in termini, ad esempio, di importi di locazione, che non è mia competenza. Cosa che invece, ad esempio, la Regione di Monte ha fatto per gli impianti radiotalensivi e c'è l'importo fissato per quanto ci sono i punti radiotalensivi che sono cose che aiutano moltissimo anche per vivere le condizioni. Le regole sono quelle. E invece qui, chiaramente, i punti che vanno a vivere così lavorano tutti. Poi abbiamo l'altro Stato, c'era l'assessore Cabellini, la sua intendenza non ci facilita le cose ed è veramente rottorea perché allora non utilizziamo i punti vincolati ma i punti che non vincolano non utilizziamo i punti vincolati ma non utilizziamo i punti vincolati per fare un valore, però per piacere un giorno pagare moltissimo perché questo lo posso fare questa storia. Allora, bisognerebbe cercare, in qualche modo, a mio avviso e per il nostro lavoro portare i scenari a chiudere i problemi e questo vediamo un po' tutti, tra l'unica che ci coinvolga. Un altro elemento è lo scenario, gli effetti con l'arrivo del wifi, con l'arrivo anche di appariti di telefonia che utilizzino l'wifi, non era una telefonia molto tradizionale, probabilmente ci sono spazi per il miglioramento del contenimento degli inquinamenti e danno anche territoriale, chiamiamolo territoriale per il miglioramento. Però è piacerebbe capire cosa ci sarà tra 6, 7, 8 anni, nel senso che io questo non lo so, e tra l'altro sono ancora lavando l'impianto normativo che si è stato modificato, che però deriva da quello che era la visione e il traffico di 10 anni fa, quindi continuiamo a essere stradati, non avendo in mente cose future, lavorando per la casa del passato. Ad esempio i vincoli territoriali, ad esempio 50 metri, talvolta tra l'altro, se non si ne sento parello, talvolta sarebbe meglio quasi essere quasi sotto il palo piuttosto che a 100 metri di distanza, in che tra l'altro un casino abbastanza di elementi di vincolo che potremmo dare al territorio. questo è un altro tema, i siti comunali, i siti comunali sono un'opportunità, secondo me, ogni volta che c'è il centro comunale, abbiamo due contenzioni, cioè un nuovo impianto, quindi i cittadini dicono, non lo vogliamo. Secondo, se mettete i siti comunali che avrete un passaggio economico e quindi voi non siete d'accordo con i gestori, e allora abbiamo due e più di nemici, se invece non facciamo la scelta di pianificazione si fa sotto il privato, almeno ne abbiamo uno solo di problema. E questo all'interno dell'intera macchina è un problema, non dimentichiamo. Nel senso che è difficile essere compatti a squadre su queste piuttosto, perché è meglio andare sul sito privato o iniziare al sportivo. E il sportivo è un problema, è un problema, è un problema in comune, perché è danneggiato a dominare. Spesso che non abbiamo mai scelto, in questi settori anni, in questo tema, i parchi. I parchi sono sempre stati assolutamente scevri, i parchi vanno in pubblico, eccetera. Però, quando iniziamo a fare un percorso di partecipazione per la scelta di un sito, talvolta sono molto più i problemi di contenzione rispetto ai reali vantaggi che si potrebbero fare. Alla fine, sono le scelte che arrivano a trovare una non soddisfazione della partecipazione della popolazione, che è anche il tema sul quale si scontra. Cioè, si sa perfettamente che la sostenibilità deve avere una situazione di compatibilità economica, ambientale, sanitaria e territoriale. Quindi trovare sotto insieme di queste tre cose è una cosa molto difficile. Allora, la nostra scelta è quella che viene trovata, che sarà il percorso nel quale viveremo, e ha la disponibilità ai gestori, quelli che sono i siti che noi teniamo con tutti. Tra l'altro, questo va a vantaggio dei gestori, perché sono siti che non hanno stato in vicinanza e quindi che hanno la potenzialità di evoluzione. Se si mettono un sito, magari, attaccati a tre o quattro coperti di avvicinio e quant'altro, si arriva già alla prima simulazione a 5 voltmetro e quindi la successiva modifica tecnologica non sarebbe neanche così. Allora, secondo noi, i siti comunali sono veramente l'opzione, o fortuna, e ci sarà da fare un piano di proposte che sia compatibile con il scenario dei prossimi due o tre anni. Troppo non riusciamo a vedere qui in là. Io non ho le capacità tecniche che poterlo vedere, e anche molti dei quali ci siamo fidati fanno sempre la finezza. Il percorso quindi del quale occorre sicuramente certificare della rotonda, certificare dei campi e dei parcheggi o dei campi sportivi, si tratterà di chiedere dei privati per poter essere coinvolti, e si chiederà anche alle strutture, come la soluzione tendenza, di riuscire a far sì che sia meglio utilizzare un campanile del 600, che è una buona, sicuramente un esercito piuttosto che andare su un edificio di attenzanza, che magari resta in un certo storico di fronte al dottore, per evitare un brutto impianto, può essere comunque molto visibile dalla velocità, è meglio un impianto un po' nascosto, un po' ambientizzato, un bene di collezione. Prego. 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 Sì, grazie. Allora io direi che continuiamo la mia sintesi. Oggi abbiamo capito, senza un po' di dubbio, che una correlazione non solo terrica, ma ben più ampia o più tra le le altre magnetiche, il corpo umano è purtroppo per noi innegabile, che i comuni hanno le mani parecamente legate e non è banale la loro vita, che dobbiamo in qualche modo portare da, per quanto mi sono guardato per molta attenzione, sia questo slide che quello precedente, capisco che in effetti le mani dei comuni sono abbastanza legate, che il problema è l'indificio di comunicabilità ai cittadini che pensano più lontano è o meglio è, e invece non sempre è così, e soprattutto che all'orizzonte si rispetta questo cambio tecnologico che ha delle implicazioni, purtroppo, su un drastico aumento di quelli che saranno i valori misurati sul territorio, che la normativa non ci tiene per niente tranquilli né in termini di limiti da rispettare né in termini di metodologia con cui si effettuano le misurazioni, purtroppo il senso di impotenza non è totale ma è maggiore di quanto sperassi, quindi purtroppo la scuola della testa ha la intenzione di fare un po' più. Però, insomma, ovviamente è importante avere sensibilità sul tema, oggi è stata una questione fondamentale per prendere conoscenza della cosa, sicuramente anche i rapporti cittadini che tutti noi, che è comune ma anche noi come forze politiche avremo, saranno sicuramente più competenti, più rodietti, con la competenza maggiore per l'articolazione di un tema non semplice, non banale, e saperemo anche noi di fare la nostra parte, di mediare le richieste, semplicemente capire che non è soltanto banale, lontano è bello, e soprattutto la preoccupazione dell'agricolazione, che ho detto drasticamente le potenze, è una cosa che ci temo a sottolineare, e che lì davvero dobbiamo fare qualcosa anche con pressioni sulla regione, perché questo passaggio non possiamo lasciarlo avvenire con gli strumenti legislativi attuali, altrimenti avvenire con gli strumenti legislativi, poi si combatterà la battaglia di rinoma in base alla normativa attuale, avete misurato, ci sono soltanto 8 volt dentro, che quindi è meno inferiore ai 20, però l'avete misurato quando vedete notturno sul 24 ore, e magari il dato puntuale dalle 10, dal mattino alle 18, è di 35 volt metro o 60 volt metro, in modo da assolutamente provare, sembrano valori possibili, considerando le potenze che si sono state esposte, quindi grazie ancora a tutti, grazie ancora a tutti davvero per essere venuti, questa interessante comunità, grazie ancora a tutti. Bene, io come Presidente della Commissione, grazie ai partecipanti che ci avete dato delle informazioni importanti, interessanti, tra l'altro è stato interessante il fatto del fabbricum sullo stato dell'Ace, 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 dell'Ace che avete presentato, e dati che avete visto dell'Ace fatto a Bologna, credo che sono stati interessanti, chiaramente da adesso in avanti, anche rispetto al nuovo che avanza, con questo documento che c'è, a livello nazionale è dato veramente preoccupato, con cui adesso non so se il caso di Piazza sono stati proponenti, ma anche la Commissione, vedere l'edito di contro anche a quel livello nazionale, per vedere che cosa, da un punto di vista legislativo, lo possono fare su un'azienda nazionale che crea comunque un conflitto, un contrasto da un'azienda nazionale che ci sono, e quindi bisogna aprire su questo un tavolo per vedere se non si può spiegare senza ancora dei conflitti giudici pesanti, perché è evidente che si arriva poi alla fine a un contrasto che è già successo a livello di corte costituzionali, in questo caso si indomini tutto come ragione può arrivare e si indomini invece non può arrivare. Per questo c'è un tema che, oltre alla nostra ragione, fonda un tema della conferenza stata ragione, e quindi questo è un tema per me. Se lo scenario che arriva è quello che voi avete detto, qui si pone un sistema vero, c'è il libro di sempre che ancora non è pieno della sua potenza, ma si pone un tema vero di riscrittura di quello che è in cui sia ragionato che funziona. Bene, credo che della materia di lavoro ne abbiamo, grazie a tutti voi veramente siete stati molto preziosi e grazie ancora. Chiudiamo, andiamo a 25.15.